la giornata di lavoro del seminario intitolato crisis o meglio dentro la crisi referendum parlamento partiti e partecipazione politica ieri c'è stato un pomeriggio molto intenso sulla questione del referendum della riflessione su questo strumento di democrazia partecipativa i rapporti con la democrazia rappresentativa e un approfondimento anche sul ruolo della corte costituzionale dibattito molto intenso ricco e questa mattina abbiamo previsto la relazione del professor salvatore curreri che è ordinario di diritto costituzionale all'università di enna core il discursant e marco boato che è stato per molti anni parlamentare sia deputato che senatore senatore una sola volta la migliore ed eravamo assieme in quella avventura in effetti molto molto importante anche per la composizione del senato in quella legislatura inutile fare l'elenco ma magari a cena stasera da otto a timau potremmo raccontare chi erano i nostri interlocutori a partire da grazia zuffa che è così e ieri abbiamo appunto avuto la relazione di andrea pugiotto e la partecipazione alla discussione all'inizio della discussione di riccardo magi deputato uscente speriamo entrante e possiamo quindi partire sono in arrivo dal friuli alcuni partecipanti ma mi pare che è giunta l'ora di dare la parola al professor salvatore curreri che ringrazio perché ha avuto un'avventura legata ai trasporti effettivamente non non facile ma che ha sopportato con grande serenità grazie professore a lei la parola grazie grazie per l'invito nonostante difficoltà per me è stato un piacere e un piacere essere essere qui con voi discutere tra l'altro su un tema diciamo particolarmente di mio interesse visto che diciamo mi occupo espressamente di di parlamento devo dire che il il tema che mi è stato assegnato si prospetta come un tema abbastanza ampio io per cercare di eh renderlo il più possibile fruibile al di là delle mie capacità ho predisposto delle delle slide eh che non hanno altro che il diciamo il lo scopo di cercare di di sintetizzare e rendere maggiormente fruibile il mio percorso argomentativo eh scusandomi in anticipo forse anche per il tono eh talvolta eccessivamente didascalico o pragmatico ma è una scelta voluta ehm quando si parla di crisi del Parlamento il rischio diciamo di fare discorsi sui massimi sistemi su diciamo su fare considerazioni di carattere forse troppo generale e troppo teorico è un rischio che secondo me va evitato proprio anche per lo dicevo ieri per corrispondere credo alle finalità di questo eh convegno cioè essere il più possibili più possibili propositivi quindi per questo motivo ecco ho voluto come vedrete eh far riferimento ad elementi pratici a dati statistici che secondo me possono anche essere motivo e spunto per una riflessione per un dibattito che spero sia uguale a quello che già si è sviluppato ieri per altezza per profondità per come dire anche originalità di spunti di riflessione alcune premesse quando si parla di crisi del Parlamento sì ci siamo sì no dobbiamo andare indietro il tema della crisi del Parlamento non è un tema nuovo diciamo che di crisi del Parlamento si parla forse dalla sua origine si potrebbe quasi dire che la dimensione della crisi del Parlamento è una dimensione consustanziale al Parlamento stesso eh basterà qui citare per esempio le critiche alla partitocrazia di Maranini e se vogliamo andare ancora più indietro nel tempo alla quel finole antiparlamentarismo che un po' caratterizza mi verrebbe da dire in questi luoghi classicamente tutta la diciamo eh anche in un certo filone politico ideologico fin dal diciannovesimo secolo quindi non è un tema nuovo è un tema come accennavo poc'anzi ampio che si presta a riflessioni di sistema perché ovviamente il Parlamento essendo diciamo al centro del sistema politico rappresentativo non può che riflettere la crisi dei soggetti che vi sono presenti e quindi richiama inevitabilmente crisi altre la crisi della rappresentanza politica la crisi del rapporto tra elettore ed eletti che è una crisi degli eletti ma anche una crisi degli elettori il tema ovviamente dei partiti politici e della loro trasformazione a cui farò un rapido cenno per poi ovviamente rimandare richiamare anche alla crisi del sistema di governo della nostra forma di governo del ruolo che il Parlamento ha giocato e gioca nell'evoluzione del sistema tutti i scenari che evidentemente fanno diciamo da sottofondo alla riflessione sul ruolo del del Parlamento terzo caveat il tema della crisi del Parlamento è da un certo punto di vista equivoco perché presuppone un modello che io qui definisco aureo rispetto al quale oggi il Parlamento attuale è diciamo peggiorato ora in realtà forse bisogna un po' mitizzare questa presunta centralità del Parlamento questa presunta capacità del Parlamento di porsi al come luogo istituzionale fondamentale della nostra democrazia questo perché anche è vero che c'è sempre la tendenza appunto a enfatizzare il passato a diciamo a renderlo talvolta più attraente migliore rispetto ai tempi attuali però è pur vero che in realtà lo stesso concetto di centralità del Parlamento non è mai stato in effetti diciamo un qualcosa di vero perché anche nei periodi in cui il Parlamento e penso soprattutto alla stagione storica della parlamentarismo consociativo quindi alla cosiddetta prima repubblica tanto per capirci in realtà questa centralità del Parlamento era una centralità che nascondeva il ruolo del dei partiti e quindi una diciamo un ruolo fondamentale dei partiti che poi si riversava nella mediazione parlamentare quindi una certa non vorrei dire marginalità ma certo una minore centralità del Parlamento già si poteva riscontrare sin da allora. Infine ultima diciamo avvertenza il problema della crisi dei Parlamenti è un problema che taglia trasversalmente guardate tutte le democrazie europee se vogliamo fare un riferimento diciamo fugace un accenno di diritto comparato tutte le assemblee rappresentative delle democrazie europee sono chi più chi meno consumature diverse in in crisi e sono in crisi perché la tendenza inevitabile da un certo punto di vista è quello dello spostamento del baricentro istituzionale verso gli esecutivi e quindi pur nelle diversità dei sistemi di governo dei modi di selezione della classe politica del ruolo dei partiti il problema della crisi del Parlamento è un problema che diciamo accomuna tutte le principali democrazie europee. Pur con queste premesse ed è questo quello che io intenderò dimostrare con questa diciamo breve relazione la crisi del Parlamento italiano presenta delle caratteristiche assolutamente peculiari e frutto di cause specifiche che nel tempo si sono aggravate e quindi quello che è la necessaria evoluzione che un'assemblea rappresentativa deve avere perché si deve adeguare si deve diciamo conformare anche ai mutamenti che il sistema inevitabilmente propone nel corso del tempo in realtà questa evoluzione poi si è progressivamente trasformata e tradotta in un progressivo declino del Parlamento in una sua progressiva marginalizzazione rispetto al dibattito politico e al stesso sistema politico istituzionale. Questa secondo me è la caratteristica principale che secondo me va diciamo evidenziata. Il ruolo del Parlamento italiano presenta una dei tratti dei profili preoccupanti di crisi che non è dato diciamo evidenziare non è dato cogliere in altre assemblee rappresentative. Allora lo scopo di questa mia relazione è proprio quello di evidenziare queste caratteristiche particolari. Cosa fa il Parlamento? Mi scuserete se sono diciamo banale però proprio per cercare anche di dare una diciamo un ordine cercare di essere il più possibile sistematico io vorrei concentrarmi proprio sulle cinque funzioni fondamentali perché il Parlamento non lo devo dire certamente a voi non fa soltanto le leggi svolge altre funzioni. Queste funzioni sono sintetamente diciamo efficacemente sintetizzate in questa famosa espressione che traggo dal volume di Walter Budget sulla Costituzione inglese. Il Parlamento deve eleggere un buon governo, fare buone leggi, educare bene la nazione, esprimere correttamente alla volontà della nazione portare compiutamente i problemi all'attenzione della nazione. Quindi rappresentanza politica, investitura dei governi e ruolo di indirizzo politico da parte del Parlamento inteso come identificazione degli obiettivi politici che gli organi appunto di governo, Parlamento e governo, devono perseguire e qui ovviamente attraverso tutti gli istituti che voi conoscete bene, funzione legislativa e anche di revisione costituzionale, funzione di controllo politico e quindi funzione sia conoscitiva che ispettiva attraverso gli strumenti che vengono a ciò predisposti dai regolamenti parlamentari, infine una funzione che oggi potremmo definire pedagogica e di educazione che il Parlamento dovrebbe svolgere nei confronti dell'opinione pubblica. Queste sono le cinque funzioni fondamentali che Budget aveva identificato e che ancora oggi possiamo dire essere le funzioni fondamentali. ce ne sono altre ovviamente che io qui mi limito soltanto a diciamo riepilogare per competenze di esposizione ma ovviamente non ci interessano in questo sede la funzione consultiva, elettiva, amministrativa e giurisdizionale. Ora se noi prendiamo in considerazione le funzioni appunto fondamentali del Parlamento possiamo vedere che in tutte queste cinque funzioni il Parlamento oggi è fortemente in crisi. Vado per ovviamente per rapidi flash alla luce di quello che ho detto in diciamo in premessa e cioè mi limiterò soltanto ad alcuni spunti di riflessione che poi potranno essere sviluppati nel nel dibattito. Innanzitutto crisi della funzione rappresentativa. È evidente che il Parlamento è in crisi perché è in crisi. Sono in crisi i soggetti che costituiscono l'anima, il motore del Parlamento. Il Parlamento non esiste al di fuori dei partiti politici. Non esiste il singolo parlamentare. Esistono le forze politiche che nel Parlamento trovano espressione, trovano rappresentanza, sono se stesse rappresentanti degli elettori e agiscono nelle istituzioni parlamentari. Ora è evidente che la crisi dei partiti politici di massa, che erano partiti forti, che sono i partiti novecenteschi, che ha portato alla nascita di nuovi soggetti politici che hanno caratteristiche completamente diverse, incide sulla funzione parlamentare. Devo dire che la retorica della crisi del partito politico personalmente la trovo poco convincente. Innanzitutto perché accomuna fenomeni politici diversi. Abbiamo partiti certamente personali, il cui destino è legato a quello del leader e quindi scompaiono al declino delle fortune politiche del leader, ma esistono partiti ancora oggi che hanno una loro, se mi è permessa l'espressione che sembra quasi una bestemmia, strutturazione ideologica. Non si può dire che ad esempio la Lega o Fratelli d'Italia siano partiti deboli. Sono partiti che hanno una loro storia, che hanno una loro identità precisa. Quindi questa retorica dei partiti deboli secondo me va un po' sfumata. certamente sono partiti diversi rispetto a un tempo, ma la loro diversità soprattutto sta, secondo me, nella loro assenza del territorio. I partiti ormai non sono più presenti nei territori, hanno una comunicazione unilaterale e diciamo più top down rispetto all'opinione pubblica. Ci ho detto però la crisi del Parlamento, dei soggetti politici che operano nel Parlamento, nel Parlamento italiano trova una sua manifestazione assolutamente originale e non ne possiamo andare fieri, nel fatto che noi abbiamo partiti in Parlamento di eletti anziché di elettori. Cioè partiti che nascono in Parlamento e che si vorrebbero proiettare poi sul corpo elettorale con fortune di solito non molto felici. Sto parlando proprio dei partiti parlamentari che sono frutto del cosiddetto transfughismo parlamentare. Questo è un fenomeno, ahimè, tipicamente italiano. Il problema del trasformismo parlamentare, il problema della mobilità del parlamentare, cioè il problema che i parlamentari vengono eletti per un partito e poi cambiano di casacca in corso di legislatura, è un fenomeno che rappresenta abbastanza significativamente anche per dimensioni quantitative, non soltanto per, diciamo, sotto il profilo qualitativo, rappresenta un fenomeno tipicamente italiano che costituisce una delle cause della frammentazione politica e che si riverbera poi anche sul funzionamento delle Camere. Io mi ero permesso qui di mettere due link sulla attuale situazione di fine legislatura sia alla Camera che al Senato perché mi sembra estremamente significativo notare come il quadro politico che ci consegna la fine di questa legislatura è un quadro, come vedete, non soltanto iperfermentato con diciamo la presenza, con una diminuzione notevole, un'erosione della consistenza parlamentare dei gruppi in corso di legislatura. Voi tutti sapete che per esempio il Movimento Cinque Stelle ha perso più quasi della metà dei membri eletti, ma come vedete, soprattutto per quanto riguarda la composizione del gruppo misto che è diventato il secondo gruppo per consistenza numerica nella nella Camera, vedete tutta una serie di soggetti politici di cui l'elettorato sostanzialmente sconosce l'esistenza perché sono soggetti che sono creati dall'aggregazione e continua disaggregazione dei parlamentari. Io curo per mia sfortuna una pagina sulla costituzione punto info in cui monitoro mensilmente i passaggi dei parlamentari da un gruppo all'altro e dico per mia sfortuna perché talvolta credetemi è un compito improbo riuscire a come dire eh tirare le somme anche numeriche eh dei continui passaggi che avvengono tra 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 gruppi. Insomma noi siamo di fronte non a partiti politici per come li intendiamo ma a club parlamentari partiti di eletti e non di elettori che altano nel quadro politico con lo sconcerto degli elettori quali ovviamente votano per un parlamentare perché si candida per un partito per una forza politica e poi solo ritrovano in un altro partito se non addirittura in un altro schieramento sulla base se mi consentite di una malintesa eh interpretazione della del divieto di mandato imperativo cioè questa concezione un po' atomistica del parlamentare che rappresenta la nazione e quindi può liberamente come dire eh evolvere la sua coscienza. Ora so perfettamente lo dico in anticipo che il fenomeno del trasferismo parlamentare è una maxi categoria in cui ci sono sono movimenti politici che hanno una loro diciamo dignità sotto il profilo diciamo dell'evoluzione del quadro politico pensate appunto alla crisi del momento cinque stelle ma ci sono anche fenomeni di trasformamento individuale io leggevo proprio credo due giorni fa che proprio alla fine legislatura ci sono ancora parlamentari che passano di gruppo perché ovviamente si riposizionano in vista della candidatura della campagna elettorale o addirittura delle prossime della prossima legislatura. Ora questo fenomeno devo dire è in qualche misura anche incentivato o se volete prudentemente non scoraggiato dei regolamenti parlamentari e qui abbiamo una profonda differenza tra camera e senato ed è una differenza che mi permetto segnalare alla vostra attenzione perché vedrete che sarà uno dei motivi di profonda diversità delle prossime camere nella appunto legislatura che si andrà ad aprire ad ottobre. Perché? Perché mentre il regolamento della camera che ahimè non è stato cambiato prevede che per la costituzione dei gruppi politici intendendo per gruppi politici eh sia gruppi parlamentari che le componenti politiche del gruppo misto. Dicevo per creare questi questi gruppi regolamento della camera prevede soltanto un requisito numerico il regolamento del senato invece già dalla scorsa legislatura dal duemiladiciassette prevede anche un requisito politico sulla base di un principio che io ho sempre sostenuto cioè che i gruppi parlamentari devono essere eh corrispondenti alle liste elettorali cioè devono corrispondere a soggetti che hanno un'identità politico elettorale che si sono presentati di danza gli elettori. Ora io non scendo nello specifico eh per esempio richiamo qui alla memoria tutta la vicenda che ha consentito nonostante questa diciamo eh questa disciplina al gruppo di Italia Viva di potersi ugualmente costituire al senato. Mi limito a eh accennare al fatto che questa divaricazione tra i regolamenti di camera e senato sarà ancora più accentuata nella prossima legislatura. Questo perché? Perché mentre come dicevo il regolamento della camera non è stato modificato con una scelta non dico non comprensibile ma certamente censurabile il senato per la seconda volta è riuscito a modificare il regolamento ed ha introdotto un ulteriore giro di vite per quanto riguarda il trasfughismo parlamentare introducendo la figura per la prima volta del senatore non iscritto al gruppo che è una figura che esiste nel Parlamento europeo e questo sarà il destino dei senatori che abbandoneranno il gruppo parlamentare in corso di legislatura se non riusciranno diciamo ad aderire ad altro gruppo quindi una penalizzazione sotto il profilo politico e se volete anche una penalizzazione sotto il profilo economico perché nella nell'ambito di questa revisione c'è anche un drastico taglio di risorse per i gruppi che perdono i loro parlamentari e anche per i gruppi che li dicevano i quali non hanno non hanno più i benefici economici di un di un tempo secondo aspetto della crisi della rappresentanza politica il problema della selezione della classe dirigente della classe politica ieri se ne è accennato mi limito soltanto qui a fare un rapido riferimento il problema delle liste bloccate che guardate non è tanto il problema delle liste bloccate perché basterebbe un po aprire l'orizzonte per capire che le liste bloccate per sapere che le liste bloccate ci sono anche altrove ci sono per esempio in germania il problema è la selezione della classe politica e quindi la inadeguatezza la incapacità dei partiti politici a corrispondere a questo genere di irresponsabilità nei confronti degli elettori e questo è un problema serio perché ovviamente il personale politico che compone il parlamento è una parte del problema la sua levatura professionale la sua capacità la sua non vorrei dire indipendenza ma anche la sua capacità di di giudizio di elaborazione autonoma noi abbiamo un impeggioramento della classe politica che tra l'altro lo si diceva ieri pomeriggio è anche frutto di una impostazione ideologica l'uno vale uno la negazione del del valore della competenza per cui come si soleva dire anche la cuoca di stalin potrebbe fare il parlamentare ora tutto questo nella prossima legislatura sarà secondo me presenterà dei profili di maggiore criticità perché la riduzione del numero dei parlamentari quantomeno ulteriormente indebolirà il già flebile il già flebile rapporto che lega elettori ed eletti a causa delle dimensioni territoriali della circoscrizione sia plurinominare che dei collegi nominali io vado qui rapidamente a segnalarvi quale sarà la ripartizione dei collegi uninominare e plurinominare alla camera il dato che mi permetto sottoporre la vostra attenzione è il fatto che ci saranno regioni con pochissimi seggi proporzionali il che implica tra l'altro una soglia di sbarramento ovviamente più elevata guardate la basilicata il molise anche lo stesso fiuli venezia giulia questo significherà appunto una ampiezza territoriale dei collegi che porterà i candidati non solo come forse già avviene ora a non fare campagna elettorale nei collegi perché tanto è inutile ma poi in futuro a non coltivare il rapporto con le dimensioni guardate che questo fenomeno è ancora più evidente al senato dove l'infausta riduzione a duecento del numero dei componenti vedete porta alcune regioni ad avere appena tre seggi proporzionali Liguria, Marche, Sardegna, Friuli, Abruzzo, in Umbria addirittura due con la basilicata uno del molise. Questo porta sostanzialmente a uno sradicamento dei dei candidati al territorio e quindi ritorniamo a quello che dicevo prima all'assenza dei partiti dei territori che secondo me è una delle dimensioni più importanti della crisi dei partiti politici. ripeto soltanto brevissimi flash crisi della funzione informativa ed educativa di controllo. Oggi il Parlamento è assolutamente marginale nella comunicazione politica perché è sostituito dal ruolo prima della stampa poi dalla tv e oggi dei social media. tanto per essere chiari scusandomi forse l'esempio abbastanza banale ma quante volte si è detto che porta a porta costituisce la terza camera del Parlamento. Le decisioni, i veri annunci politici e decisioni politiche avvengono diciamo la comunicazione politica avviene attraverso la televisione e oggi soprattutto dei mass media, nei social media. E guardate questo non è un fatto rilevante ai fini anche della qualità del messaggio perché come diceva McLuhan ovviamente il mezzo è il messaggio. Per cui il formante condiziona il formato, il contenuto, il contenitore condiziona il contenuto. Io qui mi sono ricordato preparando questa lezione di un fatto che successe nel 2019 che reputo estremamente significativo. Quando si discusse al Senato nel 2019 sulla vicenda del coinvolgimento della Lega sui fondi russi sia la Lega sia il Movimento 5 Stelle siamo nel periodo del Conte 1 quindi parliamo di Salvini e Di Maio entrambi non intervennero nel dibattito parlamentare. Uscirono dall'aula e fecero una diretta social. Mi è sembrata una rappresentazione plastica della marginalità del dibattito parlamentare. Quando invece il Parlamento riassume centralità si vede che gli elettori sono interessati. Sapete qual è la seduta parlamentare che ha registrato il maggiore ascolto? La seduta in cui è entrato in crisi il Conte 1. Agosto del 2019. Quella seduta raggiunse il massimo di visibilità mediatica perché gli elettori si sono accorti che quella era la seduta decisiva per le sorti del governo. Ma è un'eccezione. Noi non abbiamo questa cultura parlamentare cioè del riportare all'interno della Camera il dibattito politico. Pensate a quello che succede in Gran Bretagna. La nuova Premier, l'Istrass, fa subito il dibattito, si confronta direttamente con il leader dell'opposizione. Noi abbiamo importato istituti di origine anglosassone come appunto il Premier Question Time che sono di quanto più noioso ci possa essere. Non so se voi, ma sì, grazie anche a Radio Radicale seguiamo i dibattiti parlamentari e adesso sono veramente avvilenti perché il tutto si risolve nella lettura di un discorso scritto a cui si risponde per iscritto. Manca quella vivacità, quella verve, quella capacità di incalzare che sono il sale del dibattito parlamentare. Ma vogliamo anche parlare di come stanno i parlamentari in aula? Ecco, facevo poc'anzi riferimento alle dirette di Radio Radicale. Quante volte si sente il Presidente richiamare all'ordine i parlamentari? Perché i parlamentari fanno tutto in aula tranne che ascoltarsi. Tutto. C'è chi gioca, chi guarda il computer, chi fa, chi chatta, chi fa dirette, anche i nostri colleghi che partecipano a convegni mentre sono in aula e mi dispiace dirlo. Tutto questo nell'acquiescenza del Presidente. Io poi dirò parole molto dure sui Presidenti delle Camere. Personalmente reputo inaccettabile il modo con cui si sta in aula e il modo con cui i Presidenti accettino questo stato di cosa. Perché per me, da amante del Parlamento, da amante dell'istruzione parlamentare, è un modo di vilipendere quasi il ruolo del Parlamento. E guardate, questo non si vede, perché se tu vai sui canali satellitari di Camera e Senato, la telecamere è fissa. Quindi tu non vedi quello che succede in aula. Soltanto quando ho la dieta radiofonica o qualche immagine ripresa da altri mezzi di comunicazione, vedi come si sta in aula. Ed è una cosa inconcepibile. E questo è poi anche la premessa del fatto che il dibattito in aula, il modo con cui si sviluppa la discussione, soprattutto in aula, è un modo che è quanto di più lontano all'immagine retorica del Parlamento che discute. No, l'aula è uno stadio, l'aula è un teatro. Quando si parla non si parla per convincere gli altri, si parla agli elettori. Cioè è una rappresentazione scenica in cui anche la radicalizzazione del dibattito è funzionale alla comunicazione politica all'esterno. Perché l'interlocutore non è la controparte politica. Quello è un ruolo eventualmente, una funzione che si svolge soprattutto in commissione. Ma quando si arriva in aula si vuole soprattutto parlare agli elettori, ci si vuole dimostrare fermi sul punto e questo ovviamente fa sì che più che la capacità di discussione si punti sulla capacità di comunicare all'esterno quasi appunto teatralmente. Quante volte si vedono le proteste delle opposizioni con gli striscioni, con le urla, con i cartelli a favore di telecamere. Tutto questo ormai noi lo accettiamo, ma non avviene in nessun altro Parlamento. Non avviene in nessun altro Parlamento. Vado rapido. Crisi dell'egittimazione dei governi. Noi siamo passati da un parlamentarismo compromissorio dove i governi nascevano in Parlamento senza scandalo a un parlamentarismo maggioritario in cui sono gli elettori a dover voler decidere chi deve andare al governo, chi deve essere maggioranza e chi deve essere opposizione. Vi chiamo qui la famosa immagine di Duverge. Gli elettori non vogliono più distribuire le carte ai partiti perché facciano il loro gioco, ma vogliono decidere la partita, vogliono decidere chi va al governo e chi va all'opposizione. Voi sapete che la trasformazione in senso tripolare del nostro ordinamento, non più bipolare, ci ha riportato un po' indietro. Dal 2013 noi siamo ritornati, secondo me, in un'epoca di carattere consociativo. Non a caso poi abbiamo avuto i governi Conte 1, Conte 2, il governo Draghi, il governo Renzi e così via. Il problema è che questo riportare indietro le lancette dell'orologio, cioè questo ritornare alla nascita dei governi in Parlamento, non viene accettato dagli elettori. Gli elettori non capiscono più le dinamiche parlamentari. Non a caso quando si parla di compromesso parlamentare che per noi ha un valore nobile, perché da un certo punto di vista è anche l'essenza del parlamentarismo, la vulgata è quella dell'inciuscio, cioè del compromesso frutto di accordi sotto banco, di promesse inconfessabili. E questo gli elettori non lo capiscono. Non lo capiscono soprattutto perché la domanda di stabilità del governo, che è una domanda che loro vedono soddisfatta. Per esempio nelle istituzioni regionali e locali, dove eleggono direttamente il vertice dell'esecutivo, non la vedono riflessa a livello nazionale, dove voi sapete questa esigenza di stabilità si è cercata di raggiungerla per vie traverse, attraverso la legge elettorale, non attraverso una riforma costituzionale della nostra forma di governo. E che questa domanda di stabilità sia abbastanza evidente, lo dimostrano grafici di questo genere. Paragone tra la Germania e l'Italia. A sinistra, come vedete, tre cancellieri dall'89 al 2019, abbiamo quattro perché c'è Schroeder, c'è l'ultimo cancelliere, Scholz, grazie. Mentre invece a destra vedete i governi che si sono susseguiti in Italia. Crisi infine della funzione legislativa. Ora è evidente che il Parlamento nella funzione legislativa non è più centrale. Questo è un dato, diciamo, assodato, perché la funzione legislativa ormai non è più esclusiva, ha esclusivo appannaggio dei Parlamenti, del Parlamento, ma è condivisa con altre istituzioni. Vado molto rapidamente all'Unione Europea, con il suo diritto sovranazionale, visto che se ne parla sulla primazione del diritto Unione Europea, le regioni, le province autonome, il corpo elettorale, con tutto quello che siamo detti dietro sul valore del referendum, le autorità indipendenti di settore, e la Corte Costituzionale. Ecco, sulla Corte Costituzionale consentitemi una digressione, perché è evidente che nel nostro ordinamento il ruolo della Corte Costituzionale è un ruolo, tra virgolette, forse tra molte virgolette, legislativo, perché ovviamente dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme di legge. Il problema è che la Corte Costituzionale da un po' di tempo a questa parte, il collega Pugiotto lo sarebbe dire certamente meglio di me, perché tocca alcuni punti su cui, diciamo, lui è intervenuto con una, diciamo, con una visse polemica che io condivido, ha sempre più, diciamo, interpretato il suo ruolo secondo quell'ottica appunto di leale collaborazione, di dialogo con il Parlamento, per cui anziché, come dire, censurare in maniera letta in presenza di vizi di incostituzionalità, preferisce rivolgere moniti nei confronti del legislatore perché intervenga. E qui abbiamo tutta una serie di sentenze che io qui mi sono permesso di repilogare, moniti il più delle volte caduti nel vuoto. Il problema per esempio dei soggetti colpiti di interdittivo antimafia, una recente sentenza 180 al 2022, il problema del trattamento dei bambini adottati, il problema delle residenze per l'esecuzione di misura di sicurezza, riforma di scipia e licenziamenti, sono tutte sollecitazioni che il la Corte Costituzionale rivolge nei confronti del legislatore, fino ad arrivare secondo un'innovazione, diciamo, che personalmente trovo, diciamo, opinabile, addirittura al fatto che la Corte metta immora oggi il legislatore assegnandogli un termine temporale, mai rispettato, entro cui il legislatore deve provvedere. Ecco, il caso più classico, per questo richiamavo, diciamo, quello che ha scritto il collega e amico Pugiotto, è quella della divisione del gastro- stativo. Perché è il caso, diciamo, più grave? Perché la Corte sostanzialmente ormai rende disponibile il suo giudizio di costituzionalità. L'hai scritto benissimo tu. Di fronte, cioè, ad un'acclarata illegittimità costituzionale, la Corte, secondo me, in base ad una malintesa concezione della collaborazione istituzionale, anziché dichiarare incostituzionale a disposizione, rinvia al Parlamento. O risultati, ovviamente, che non soltanto incidono sulla carne delle persone che poi in realtà soffrono di questi rinvii, ma senza alcun costrutto, perché appunto la Corte confidando in questa pretesa esibiscenza del legislatore, assegna questi termini che non vengono mai rispettati. Per cui noi avevamo il termine, l'ulteriore ordinanza, la 122 del 2022, che ha segnato ulteriori sei mesi nella convinzione pacifica che il Parlamento sarebbe comunque sarebbe addivenuto all'approvazione di questa riforma, visto che ormai era indirittura ed arriva, poi ti arriva lo sceglimento anticipato e tu rimani con un pugno di mosca in mano. E intanto le persone però in carcere rimanono. Ma il vero dominus e il vero puntum condolence della crisi legislativa del Parlamento è nel ruolo del governo. Ora io voglio essere estremamente chiaro perché non bisogna, come dire, confondere le acque, non bisogna buttare l'acqua sporca con tutto il bambino. Ora è chiaro, almeno personalmente mi è chiaro, che è inevitabile che il governo come comitato direttivo della maggioranza abbia un ruolo fondamentale nel procedimento legislativo, che va ben al di là rispetto a quella che è l'iniziativa che gli è riservata, per esempio sulle leggi di bilancio. Guardate queste statistiche, è evidente che l'iniziativa parlamentare sia quella numericamente più diffusa. Nella scorsa legislatura, cioè in questa legislatura, nella diciottesima, 3.305 sono stati i disegni di legge di iniziativa parlamentare pari all'88% del totale, contro l'appena 8% del governo, 289. Ma è evidente che l'iniziativa parlamentare non ha nessun chance di solito di successo, è un'iniziativa che viene presentata spesso a uso e consumo degli elettori per far dimostrare al parlamentare che si è interessato al problema. In realtà il peso specifico dell'iniziativa del governo è ovviamente maggiore, ma per la ovvia considerazione che il governo ha dietro di sé, o se volete davanti a sé, la maggioranza parlamentare e quindi i suoi disegni di legge hanno ovviamente maggiore chance di essere approvati. Infatti, bene il 79,3% di disegni di legge governativi vengono approvati contro l'appena 19,7% dei disegni di iniziativa parlamentare, tra l'altro poi l'iniziativa parlamentare che viene magari anche ripresa dal governo, emendata, quindi si trasforma in iniziativa mista. Questo non mi scandalizza, così come non mi scandalizza assolutamente il controllo dei lavori parlamentari, della programmazione dei lavori parlamentari da parte del governo. queste sono dinamiche, diciamo, che sono secondo me logica conseguenza del ruolo degli esecutivi. Il problema sta nel bilanciamento e anche nella tendenza che la produzione legislativa ha assunto nelle nostre camere. Guardate queste, ora io andrò molto veloce perché sono tutta una serie di dati numerici, quindi cercherò anche di recuperare un po' il tempo. Guardate la percentuale delle leggi derivanti da conversione di legge, dalla tredicesima alla diciottoesima legislatura. Vedete che questa banda gialla si va progressivamente allargando e di contro si contrae la banda invece, diciamo, verde, celeste riguardante le leggi ordinarie. questo è un diagramma che dimostra la crescita del potere normativo del governo. Queste sono medie mensili per quanto riguarda i vari tipi di atti di legge. La linea, diciamo, che parte più alta, le leggi formali, che partono dal 18-65% nella decima legislatura, progressivamente diminuisce, mentre invece aumentano i decreti legislativi e i decreti legge. Questo è un dato che è comune, per esempio, a tutti gli ultimi governi. Anche qui guardate la banda gialla riguardante la percentuale di leggi di conversione dei decreti legge. Governo Letta, governo Renzi, fino a arrivare al governo Draghi. Andiamo all'attuale legislatura. Nell'attuale legislatura noi abbiamo avuto 293 leggi ordinarie approvate, 149 decreti legislativi, 143 decreti legge, 16 regolamenti di delegificazione. Questo è il grafico. Quindi con un progressivo aumento della decretazione d'urgenza. E infatti di queste 293 leggi, ben 100 sono leggi di conversione dei decreti legge. La percentuale maggiore, come vedete, 113, il numero maggiore, sono ratifiche di trattati internazionali, che sono leggi solitamente meno, non meno importanti, ma meno discusse, perché si è dato ovviamente di ratificare l'operatore del governo. Qui il dato quindi da mettere in evidenza è il rapporto tra leggi di conversione dei decreti legge e leggi ordinarie. Ben 100 sono le leggi che derivano dai decreti legge. E qui entriamo, diciamo, nell'aspetto più patologico della produzione legislativa del Parlamento. Il decreto legge, come aveva intuito 40 anni fa, 50 anni fa Alberto Predieri, è iniziativa legislativa rafforzata dal governo. Noi continuiamo a insegnare ai nostri studenti che il decreto legge viene emanato in casi straordinaria necessità ed urgenza. Sono tutte balle. Il governo emanano nel decreto legge quando e come vuole. Perché è l'unico modo, l'unico strumento procedurale che il governo ha, in assenza, diciamo, di cosiddette corsie preferenziali, per riuscire a attuare il proprio programma. Il Parlamento, l'attività legislativa del Parlamento è ormai prevalentemente, e consentitemi di dirlo quasi esclusivamente sotto il profilo dell'importanza politica, concentrata sulla conversione della degradazione d'urgenza. Questi sono i decreti legge emanati dal governo Berlusconi, quarto, quindi parliamo del 2011, 2008-2011, fino al governo Draghi. Come vedete, la tendenza da Gentiloni in poi è in ascesa. Col governo Draghi siamo arrivati a 59 decreti legge emanati. Poi certo c'entra ovviamente la pandemia, è ovvio, ma come vedete è un dato comunque ormai strutturale, non è un dato marginale o concentrato. In realtà i decreti legge vengono continuamente emanati e questa è la media mensile. Cioè noi ormai balliamo al ritmo di due, due decreti legge al mese. Con il governo Draghi siamo arrivati a quattro. Il governo Conte 1, 3,18. È un continuo, una continua decretazione d'urgenza. Con tutti i problemi che poi ovviamente a cascata questo comporta per quanto riguarda l'esame. Consentitemi una parentesi, l'ho scritto anche sul mio profilo Facebook. Questa vicenda della manina o della manona che ha messo l'emendamento che consentiva di sforare il tetto massimo dei dirigenti. Io la trovo assolutamente paradigmatica del modo con cui si esamina i decreti legge in Parlamento in cui non si sa chi e cosa. Ora scusatemi l'espressione un po' volgare ma la traggo da una da un testo che ora poi riprenderò e che io reputo innuce un piccolo manuale di diritto costituzionale che dovrebbe essere studiato nelle scuole. Mi sto riferendo a Io sono il potere, confessione di un capogabinetto a cura del giornalista Gennaro Salvaggiuro. Questo capogabinetto anonimo, almeno per me è anonimo, qualcuno sussurra che sa chi è, dice una cosa sacrosanta. I decreti legge sono il bordello della Repubblica. Perché, è come diceva qualcuno, è meglio non saperlo, è meglio non sapere come si fanno i Wusterl, è un'altra cosa, non mi ricordo chi. Perché, perché, allora noi pensiamo al procedimento legislativo, qual è il valore del procedimento legislativo? La chiarezza, la trasparenza, la responsabilità. Si sa chi propone, si discute, ci si confronta, tutto questo dimenticatolo. Perché, quando appunto si esame i decreti legge, poi arriva l'emendamento, arriva, diciamo, la nottetempo, la manina, la che ti modifica e nessuno sa nulla. E nessuno è responsabile di nulla, perché, tra gli altri paradossi, in questa vicenda non si sa chi ha approvato questa disposizione. Quindi io la trovo estremamente paradigmatica del modo farraginoso, opaco, irresponsabile con cui si leggifera. Ora qualcuno potrebbe dire, ma, santo Dio, questo abuso della relazione d'urgenza, ma è mai possibile che non trovi un ostacolo, che non trovi una resistenza, non trovi un'opposizione? No, non la trova, perché? Eh, ma è un'eccezione alla regola, è un'eccezione alla regola. Quelli che l'hanno votato, che non hanno la sua soppressione. Sì, ma è un fatto appunto eccezionale, proprio anche per la dimensione mediatica di questo fatto assunto. E ricombo col senso. Sì, sì, lo dirò, lo dirò. Allora, il problema è che questo modo di procedere conviene a tutti. Conviene alla maggioranza, ovviamente, ma conviene anche all'opposizione, conviene anche ai singoli parlamentari, i quali approfittano di questo, di questa freccia, perché ovviamente la procedura di conversione è una procedura contingentata perché deve essere chiusa entro 60 giorni. Approfittano di questo treno veloce per che siano, perché siano approvate, perché siano inserite le loro proposte legislative. Guardate questo grafico che è estremamente significativo. Qui vi riporto gli emendamenti approvati in commissione, in assemblea, nelle leggi di conversione. Perché c'è un'attività emendativa. Perché appunto si profitta di questo treno veloce per inserire i propri progetti. Ecco, 893 sono gli emendamenti proposti dal relatore della commissione. 2937 sono gli emendamenti approvati dalla maggioranza, approvati proposti dalla maggioranza. Ma guardate, l'opposizione ne ha presentati e si è rivisti approvati 513. Addirittura 458 sono gli emendamenti approvati dalla maggioranza e dall'opposizione. Quindi come vedete questa attività, questo modo di legiferare, trova d'accordo tutti. Al di là ovviamente poi delle dichiarazioni di principio, delle proteste, dell'aula. In tutti sono presso a poco d'accordo. E questo lo dimostra anche il fatto che l'attività emendativa in realtà poi è rilevante. Io qui vi paragono l'incremento dei commi e anche l'incremento delle parole. C'è un'attività rilevante, aumentano i commi rispetto ai commi originari e anche le parole. Il problema sta nel fatto che l'attività emendativa del Parlamento è un'attività poi tutto sommato il più delle volte marginale. Io qui la definisco interstiziale. Cioè il Parlamento non incide sulle linee politiche di fondo, che sono già decise, sono blindate dal governo. Per cui incide sui dettagli. Addirittura quando c'è la legge di bilancio, il governo destina un vero e proprio capitolo di spese per le cosiddette leggi mancia. Cioè per gli emendamenti che sa che verranno presentati dai singoli parlamentari e che sono il prezzo da pagare per evitare problemi. Io mi rendo conto di che sta andando molto lungo, quindi cerco di sintetizzare. Tutto questo si attua principalmente attraverso il gioco della questione di fiducia sul maxi emendamento. Questa è poi diciamo il modo con cui si chiude la partita. il decreto legge viene discusso in commissione, si trova un accordo in commissione tra maggioranza, opposizione e governo, il testo viene blindato, arriva in aula, si traduce in un maxi emendamento su cui il governo pone una questione di fiducia. e questo è il motivo per cui, se possiamo magari aprire questo link, quello sulla legge di bilancio, che mi sembra più significativo, noi abbiamo leggi composte da un solo articolo e migliaia di commi. Volevo riportarvi l'ultima legge di bilancio. Perché? Perché si pone la questione di fiducia sull'articolo unico che contiene tutti i commi. Perché ovviamente in questa maniera, con un voto unico, chiudi, converti il decreto legge e chiudi il procedimento legislativo. Se riusciamo ad aprirlo, se no andiamo avanti. Ecco, questa è l'ultima legge di bilancio. Mi interessa questa qua. Articolo 1. si apre il sottopondo, no? Vabbè, vabbè. Niente, andiamo avanti. Questa forse è la legge sulle unioni civili, che era il 76 2017. Vabbè. Si, comunque sono tutti i commi successivi. Andiamo alle slide. rapidamente. Questione di fiducia totali. Anche qui, come vedete, si tratta di uno strumento che è nato per esigenze diciamo di compattamento della maggioranza. Oggi viene utilizzato soprattutto per velocizzare la l'attività legislativa. Questione di fiducia al mese. Ormai, appunto, guardate in sinottica, in maniera sinottica questo grafico con quello precedente sui decretti legge al mese. Vedete che c'è una corrispondenza per cui appunto i decretti legge vengono convertiti tramite questioni di fiducia. Rapporto tra questioni di fiducia e leggi approvate. Il 47 per cento delle leggi viene ormai approvata con questioni di fiducia. Ci sono ormai disegni di legge che vengono approvati con doppia questione di fiducia sia alla Camera che al Senato. Infine ci sto arrivando. Decreti legge matriosca, cioè decreti legge che proprio perché premessa, proprio perché i decreti legge vengono continuamente emanati, molto spesso non c'è il tempo per esaminarli e allora vengono, la loro conversione viene raggruppato in un unico legge di legge che contiene al suo interno tramite emendamenti più segni, più decreti legge, come le matriosche per l'appunto. Noi abbiamo avuto nella, in questa legislatura, 33 decreti legge convertiti, aventi al loro interno più disegni di legge di conversione. Una pratica che dice quel grillo parlante che è diventato la Corte Costituzionale, arrega un pregiudizio alla chiarezza delle leggi e la intellegibilità dell'ordinamento. È una sensazione del 2018 che ovviamente è rimasta lettera morta. Il monocameralismo di fatto, per cui oggi ormai le leggi di legge vengono approvati da una camera, esaminati, emendati da una camera e poi semplicemente approvati a scatola chiusa da un'altra e questo riguarda sia decreti legge che le leggi di bilancio. Oggi ormai massimo sono, un tempo erano tre letture, oggi sono due letture. In questo, questo esempio costituisce ulteriore eccezione, tant'è vero che la casellata aveva dato anche il discorso d'addio, aveva salutato i seri, ma questo per dire appunto che aveva già dato quasi per scontato che non si sarebbe rinnotato. Anche le stesse leggi di bilancio vengono mai approvate in due letture. Vado rapidamente in conclusione. Tutto questo quadro è ulteriormente peggiorato in questi ultimi anni. Sono accresciuti i poteri normativi del governo durante la pandemia. Abbiamo di fronte nella prossima legislatura l'incognita dovuta all'impatto che la riduzione del numero parlamentare avrà sull'organizzazione e sul funzionamento delle Camere e specialmente del Senato perché io ritengo che una Camera con 400 deputati possa lavorare, se è vero come è vero che finora ha lavorato un Senato con 315, ma un Senato che aveva 315 e che deve svolgere le stesse funzioni con 200 senatori, con tutta la riforma che hanno fatto, io la vedo particolarmente dura. Diciamo ieri con il collega che per esempio una delle conseguenze, seppur marginali, potrebbe essere il fatto che nessun senatore potrà diventare ministro, perché gli equilibri saranno soprattutto in commissione giocati su uno o due diciamo membri che qualunque tipo di assenza può mandare sotto il governo. Questo ovviamente nella migliore delle ipotesi, diciamo così. E poi anche la diversità appunto delle due Camere dovuta alla riforma regolamentare di cui dicevo. Ecco, questa per esempio è la situazione che si verifica dalla prossima legislatura per quanto riguarda l'organizzazione del Senato e della Camera circa le commissioni parlamentari. Come vedete alla Camera hanno mantenuto le 14 commissioni, al Senato ne hanno avute 10 e questo vorrà un problema anche di coordinamento nei lavori delle commissioni parlamentari, visto che non ci sarà la classica diciamo corrispondenza anche numerica. Di fronte a questo, chi è che difende il Parlamento? C'è qualcuno che è in grado di opporsi a questa a questa sostanziale incapacità del Parlamento di svolgere il proprio ruolo a livello soprattutto legislativo? Certamente non la Corte Costituzionale, ora non c'è qui il tempo, magari ci ritornerà se volete in fase di dibattito, ma la Corte Costituzionale sostanzialmente da 30 anni a questa parte si è trincerata dietro la insindagabilità degli interna corporis parlamentari e ha sostanzialmente rinunciato al suo ruolo di controllo sulla regolarità formale delle leggi. Noi abbiamo una disposizione costituzionale che la Corte, su cui la Corte potrebbe assolutamente far leva, che è l'articolo 72 della Costituzione che ci dice che ciascun disegno di legge deve essere esaminato articolo per articolo e approvato con votazione finale. Ora già lo stesso fatto che dice che articolo per articolo significa che gli articoli devono essere almeno due, il che non è, visto che abbiamo disegni di legge e appunto tramite i maxi emendamenti. Quindi una giurisprudenza costituzionale che io mi sono permesso più volte di criticare perché va a scapito del giusto procedimento legislativo. ci sono delle sentenze della Corte sulla decretazione d'urgenza ma sono assolutamente marginali, assolutamente marginali. Per esempio la Corte cerca di difendere il requisito dell'omogeneità della materia ma se poi come dire ammetti come omogenei decreti legge che trattano diverse materie ma con il medesimo obiettivo, decreto aiuti 1, 2, 3, alla fine hai aperto le porte a tutto. Anche qui, scritto una frase sempre da questo famoso libro, se l'obiettivo finale è far passare un condono fiscale si inserisce una proroga di un termine di presentazione di una dichiarazione tributaria di settore. Se l'obiettivo è un condono edilizio bastano una norma sulle autocertificazioni nelle ristrutturazioni rurali e il gioco è fatto. La norma civetta consentirà di ammettere durante la conversione parlamentare il condono. Cioè la Corte dice la materia deve essere unica, deve soprattutto per quanto riguarda le materie ci deve essere una omogeneità ma basta inserire un emendamento seppur marginale, non significativo, per aprire praterie alla possibilità poi in fase di conversione di inserire il vero nocciolo diciamo della modifica contenuti ben più estesi. Qualcuno dice ma la Corte ha aperto al conflitto di attribuzione del singolo parlamentare e questo è uno strumento che potrebbe essere valorizzato perché permetterebbe al parlamentare di rivolgersi alla Corte per rivendicare la lesione delle sue prerogative a cominciare dal diritto di parola, al diritto di emendamento. Una vittoria di pirlo. Chi, come i parlamentari sanno, ha fatto il ricorso al conflitto di attribuzione per difendere le proprie prerogative, sa che tutti i conflitti di attribuzione successivi sono stati tutti dichiarati inammissibili e c'è un motivo. La Corte ha messo la sticella troppo alta, cioè ha stabilito come requisito di ammissibilità che ci deve essere una grave, evidente violazione del diritto del singolo parlamentare, tanto per capirci, è come se il parlamentare volesse parlare in aula, il Presidente non gli dava parola. Ora, voi capite bene che si tratta di ipotesi, vogliamo dire realistiche per non dire ridicole. Io a questo strumento non credo, e l'ho scritto, l'ho detto, è una vittoria di pirlo, quella del conflitto di attribuzione, perché sostanzialmente non inciderà. Ma soprattutto a me quello che veramente, non dico dispiace, ma veramente reputo grave, è che la Corte continua ad insistere sul fatto che le controversie parlamentari, vado veramente in conclusione, le controversie parlamentari debbano essere risolte all'interno del Parlamento, sostanzialmente abdicando al suo ruolo. Cioè come se il carnefice dovesse essere in un momento di appunto resipiscenza favorevole alla vittima. La Corte scrive quando derivano dal diritto parlamentare la loro esaustiva qualificazione, scusate, quando derivano dal diritto parlamentare la loro esaustiva qualificazione, le prerogative rivendicate dai membri delle Camere trovano all'interno delle Camere stesse loro forme di tutela, che è una contraddizione in termini secondo me, perché è illusorio ritenere che alle violazioni lamentate pongono il rimedio coloro che ne sono artefici. Infine il Presidente della Repubblica, tanto per raccogliere un suggerimento. Il Presidente della Repubblica finora ha svolto un ruolo sostanzialmente di grillo parlante, rivolge moniti, certamente interviene e noi non lo sappiamo attraverso la sua opera di persuasione in fase di emanazione che ti legge, però di fronte alla volontà delle Camere si arrende. C'è la famosa dottrina Ciampi per cui il Presidente interviene soltanto quando c'è un manifesto vizio di incostituzionalità. Il Presidente non interviene. Al massimo quello che si è concesso sono le promulgazioni con motivazioni contrari. tra l'altro, diciamo, soluzione che deriva anche dal fatto che manca la possibilità al Presidente di una promulgazione parziale. Cioè di fronte alla necessità di promulgare un decreto legge, lui è di fronte a un'alternativa secca o tutto o niente e preferisce il tutto anziché il niente e allora si affida diciamo a messaggi in cui esterna diciamo le sue osservazioni che però rimangono cadono nel nulla. Infine, l'ho già detto, la passività dei Presidenti delle Camere dinanzi a tutto questo andazzo parlamentare, a queste cattive pratiche parlamentari. Lo dico molto schiettamente, molto seccamente per ragioni di brevità, noi da due legislature abbiamo pessimi Presidenti delle Camere perché non hanno background politico, non hanno sensibilità politica. Sono persone che sono state catapultate in quella carica per motivi, diciamo, di accordi politici che hanno dimostrato più volte e potrei essere anche più esplicito ma non ho il tempo, in circostanze fondamentali di non avere la capacità di lettura politica dei problemi. Pensate alla vicenda del scopo, sì. cioè il fatto di dover, come dire, non prendere la decisione ovvia in base alla quale se cambia la maggioranza di governo e cambia quindi l'opposizione un istituto come il Copasi che per legge deve essere presunto all'opposizione deve cambiare presidenza. E allora invece ci sono volute trattative lettere circolari perché poi alla fine attraverso la soluzione, diciamo, della dimissione totale dei membri si arrivasse a questa conclusione. Pertini nel 71 aveva fatto diversamente con l'aggiunta dell'elezione ma era Pertini. Vado veramente in conclusione, non so quante volte l'ho detto e quindi mi scuso. Quali sono le soluzioni che si prospettano? Brevemente, una è quella ormai di prendere atto della omogeneità delle Camere, delle due Camere, per aumentare le competenze del Parlamento del Sud Comune. Lo dico molto seccamente. Noi abbiamo ormai una tendenza che vuole che le Camere siano ormai parificate ed eguagliate, ancora più del bicarialismo paritario che abbiamo, perché abbiamo le abbiamo parificate per durata, questo già dal 63, abbiamo parificato l'elettorato attivo, abbiamo una legge elettorale che per la prima volta si applica ad entrambe le Camere in maniera uguale, salvo la base regionale che poi incide, per cui le uniche differenze sono soltanto l'elettorato passivo, il numero dei componenti e i regolamenti parlamentari. Allora, quello che si vorrebbe fare è a questo punto, visto che abbiamo due assemblee parificate in tutto e per tutto anche sull'elettorato, ampliamo le competenze del Parlamento del Sud Comune. È la proposta che ha fatto Enzo Kelly e che è stata poi più volte rilanciata, per cui si vorrebbe concentrare nel Parlamento del Sud Comune, se mi consentite, anche per ragioni architettoniche, cioè oggi con la riduzione dei parlamentari, parlamentari deputati e senatori stanno tutti nella, stanno tutti in maniera, come? Eh, forse sì. Quindi la mozione di fiducia, la mozione di sfiducia, per esempio la conversione di legge, si vorrebbe concentrare in un'unica Camera. Secondo me questa è una soluzione, poi magari ne discuteremo, abbastanza complicata, perché poi non si capisce questa concentrazione del rapporto di fiducia in un'unica Camera, come poi si potrebbe coordinare con il mantenimento comunque di un rapporto fiduciario, per esempio con le questioni di fiducia nelle singole Camere. Ma poi in realtà il vero problema è che noi ci trasciniamo da decenni, il problema è la trasformazione del Senato in realtà in una Camera diversa. E quindi il superamento del bicameralismo paritario e differenziato, che secondo me rimane una delle, diciamo, uno dei fattori, se non forse il fattore principale, diciamo, di farraginosità del nostro sistema. Piuttosto si dovrebbe ripensare al procedimento legislativo, a partire da una cosa semplice, l'abolizione, o meglio, scusate, la dichiarazione di incostituzionalità del maxi-emendamento. Lì sì che il Presidente della Repubblica potrebbe intervenire. Basterebbe il rinvio anche di una legge marginale per lanciare un segnale che a questo punto costringerebbe anche gli stessi Presidenti della Camera ad essere più selettivi e più severi nell'ammissibilità del maxi-emendamento. Io questo la reputo, diciamo, un obiettivo raggiungibile. Dopodiché, certo, ci possiamo scatenare per riflessioni più di sistema. Lo dico molto brevemente. Uno, il Parlamento, secondo me, deve essere il luogo dell'opposizione. È il luogo in cui l'opposizione deve poter svolgere il suo ruolo. La divisione dei poteri non è tra Parlamento e governo. Questo è un figurino ottocentesco. La vera divisione dei poteri è tra governo e maggioranza da un lato e opposizione dall'altro. Se questo è perché così è, perché questa è l'anima della dialettica politica, l'interesse a che il Parlamento diventi un luogo fondamentale è soprattutto un interesse della opposizione. Ci sono stati dei tentativi in questo senso, perché la riforma, per esempio, del regolamento della Camera, voluta da Violante, che è stato un ottimo presidente, era abbassata proprio su questa idea forte del ruolo dell'opposizione. Noi non abbiamo però uno statuto dell'opposizione compiuto e quindi dovremmo in questo senso, ci sono spazi in questo senso per ulteriori innovazioni. La valorizzazione in senso integrativo della dialettica parlamentare attraverso gli strumenti di democrazia partecipativa, a cominciare la presa popolare, anche se lì è un problema anche di capacità dell'opposizione di crederci. La riforma del regolamento a cui facevi riferimento tu ieri, che permette all'iniziativa legislativa di essere blindata, in realtà non ha funzionato, ma perché non ha funzionato proprio l'iniziativa legislativa popolare, cioè non ha funzionato anche diciamo la capacità dell'opposizione di avverersi di questo strumento per portare avanti questi segni legge, fermo restando che poi deve essere un'iniziativa che parte dal basso. Infine, altra prateria, che mi limito qui ad evocare, il problema del controllo parlamentare sulle politiche pubbliche, cioè quello che il Parlamento dovrebbe avere soprattutto sulla attuazione legislativa. Ma qui ritorniamo da dove siamo partiti e chiudo veramente. Il problema è che tutte queste cose al parlamentare non interessano. Il parlamentare molto spesso ha bisogno del risultato pratico. Tutte queste cose sono cose di prospettiva, che richiedono tempo, pazienza, lavoro, studio. Il problema è che questa classe politica, questa classe parlamentare cerca il consenso immediato e quindi questo tipo di lavoro parlamentare è di solito rifiutato, è di solito negletto, proprio perché non viene considerato elettoralmente spendibile. E qui ritorniamo da dove siamo partiti, e cioè il problema della selezione del classe dirigente e del ruolo dei partiti politici. Io mi scuso profondamente di tutto questo tempo. grazie per la pazienza. Pongo un quesito. Facciamo una pausa di cinque minuti perché credo che forse anche per riordinare le idee e poi ascoltare Marco Boato, mi pare forse una pausa non lunga, insomma, cinque minuti, va bene. Grazie. 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 che possiamo già dire che lavoreremo fino alle 14 a questo punto presumibilmente e come dipende dagli interventi perché no poi no alle 15 e 30 è previsto quindi allora se come è previsto tanto adesso i partecipanti stanno rientrando quindi diamo inizio e la parola a Marco Boato che interloquirà con la densa relazione del professor Curreri che ha svolto un lungo excursus sulla crisi del Parlamento allora non credo che abbia bisogno di presentazione Marco Boato e quindi gli do la parola grazie io rinnovo anche oggi il mio ringraziamento a Grazia Zuffa e a Franco Corleone che mi hanno invitato a questo incontro e anche il mio ringraziamento al professor Andrea Pugiotto perché se non ho capito male è stato lui a suggerire che facessi il discusser dell'ottima relazione di Cosima prima di averlo ascoltato qui perché ho avuto la cortesia da parte di Franco Corleone di ricevere il powerpoint della sua relazione con un paio di giorni di anticipo cosa che per chi deve fare il discassere molto e molto utile non so se poi Andrea Pugiotto si pentirà di aver fatto questa proposta e devo dire che parlando informalmente con lui avendo io detto io ho una lunga esperienza parlamentare ma sono tra virgolette un laico del diritto anche del diritto parlamentare non un chierico come siete voi del diritto costituzionale lui mi ha detto ma ci aspettiamo che tu faccia un po' riferimento anche alla tua esperienza cosa che in queste considerazioni che spero non siano troppo lunghe farò alternando due aspetti e seguendo però la traccia della ottima relazione del professor Curreri farò anche qualche riferimento personale se non è indelicato ha fatto bene il professor Curreri a cominciare la sua relazione ricordando le radici lontane che risalgono alla seconda metà dell'ottocento ai primi del novecento dell'antiparlamentarismo e io ricordo che all'epoca non conoscevo all'epoca della mia prima esperienza parlamentare alla camera con i radicali dal 79 all'83 non avevo una conoscenza di questo tipo di letteratura antiparlamentare quelli che poi adesso se vengono trovate delle voci anche su questo vengono chiamati romanzi parlamentari ma sono romanzi antiparlamentari e però nel nell'ottantuno se non ricordo male quindi ero deputato radicale all'epoca venivo la rotta continua figuratevi cioè da una sinistra extra extra parlamentare ma non antiparlamentare extra parlamentare mi accadde di trovare nelle librerie che frequentavo come oggi assiduamente due testi che lessi ed erano uno l'imperio di federico de roberto che era l'autore dei vicere e che aveva scritto questo romanzo parlamentare che fra l'altro non era riuscito in vita a pubblicare neanche a completare e che non casualmente fu pubblicato postumo durante il fascismo ma invece il testo di de roberto e dei primi del novecento e nello stesso periodo l'imperio fu pubblicato se non ricordo male da mondadori e tascabili mondadori e nello stesso periodo se non ricordo male la bur rizzoli però vado a memoria ripubblicò un libretto di della gattina intitolato i moribondi di palazzo carignano quindi siamo al romanzo parlamentare riferito al parlamento di torino poi ci furono anche dei testi riferiti al breve periodo del parlamento di firenze e poi sono molti testi meno famosi dei due perché questi due che ho citato sono i più famosi riferiti al parlamento a montecitorio ci sono anche vari libri intitolati a montecitorio i segreti di montecitorio cose di questo genere ma come ricordo che li lessi allora alla sera dopo le sedute parlamentari e mi colpirono e mi colpì perché molte cose erano diverse ovviamente rispetto alla realtà che io cominciai a vivere per la prima volta nel 79 ma c'erano c'era questa filone che si è poi che arriva fino ad oggi di anti parlamentarismo che mi colpì allora e mi colpisce ancora oggi ovviamente come si dice mutatis mutandis la situazione è totalmente cambiata ma non è cambiato questo filone che dura da oltre un secolo il professor curreri ha giustamente individuato le funzioni le principali funzioni politico istituzionali del parlamento la rappresentanza politica per prima l'indirizzo politico rispetto al governo la funzione legislativa che è la funzione principale una volta eletto il parlamento che dovrebbe svolgere il parlamento abbiamo visto dalla sua dalla relazione del professor curreri la problematicità negli ultimi decenni e negli ultimi anni della funzione legislativa la funzione di controllo e poi quella pedagogica e lui l'ha presa da questo testo di bagger però è funzione pedagogica non la vedrei molto almeno non codificata diciamo mentre lui cita giustamente an passanque la consultiva quella elettiva cioè gli organi eletti dal parlamento giudici costituzionali la quota dei giudici costituzionali i membri del crsm laici fra virgolette e fra l'altro arriveremo proprio nel prossimo periodo a sperimentare vedremo come questa funzione del nuovo parlamento funzione amministrativa la funzione anche giurisdizionale che non è secondaria la crisi della funzione rappresentativa il professor curreri ha insistito molto su questo su questo aspetto e anche problematizzato con questo tipo di di analisi della crisi della funzione rappresentativa dai partiti di massa ai partiti di opinione lui a un passano a un certo punto ha citato maurice diverge e ci sono dei testi classici di diverge proprio sul sul sistema dei partiti e poi il passaggio anche questo curreri l'ha accennato un passano ai cosiddetti partiti personali io di forse marco perduca mi perdona se io che sono molto orgoglioso dell'aver iniziato la mia esperienza parlamentare con i radicali sia pure da indipendente ma in quel secondo gruppo radicale ce n'erano molti vari non molti c'è anche baldelli più mimo pinto eccetera poi entrò sciascia e tanti altessari che veniva dal pc melega che veniva dall'espresso aiello che veniva dai socialisti era un gruppo molto composito e molto interessante anche come se probabilmente no la cosa che a me viene in mente ogni volta che sento parlare ci sono ormai dei saggi su questo che il professor curreri sicuramente conosce di politologi sui partiti personali che con all'epoca con il mio sconcerto lo dico con rispetto il primo soggetto politico che si nominò col nome del suo leader adesso siamo abituati che ce l'hanno tutti salvo il PD che non ha il nome del leader questa volta ma all'epoca di Rutelli per esempio ci fu il nome di Rutelli ma non il PD non ha oggi il nome del leader nel simbolo ma il primo che lo fece fu il partito radicale ancora oggi quando ascoltiamo l'ottima radio radicale che è un vero servizio pubblico però sentiamo quando si passa dal servizio pubblico alla radio radicale come tale organo della lista Marco Pannella fu la prima lista che prese il nome del suo leader per volontà del suo leader e io devo dire sinceramente all'epoca rimasi un po' sconcertato e non mi immaginavo che invece questa scelta sarebbe stata poi seguita dalla qua non da tutti per fortuna ma dalla quasi totalità degli altri partiti oggi è inflazionata la caratteristica personale di alcuni soggetti politici non so se non mi ricordo se Curreri abbia abbia fatto riferimento a questo ma essendo io un sociologo di formazione universitaria e anche come docenza universitaria a me viene in mente quando sento parlare di oligarchie di elite di classe politica in senso generico quella che è stata l'origine della virgolette scienza politica o sociologia della politica ma in questo caso bisogna studiere scienza politica italiana Gaetano Musca Roberto Michels Wilfredo Pareto i concetti di classe politica i concetti di circolazione dell'elite il concetto di minoranze organizzate che essendo organizzate riescono a imporsi sulle maggioranze disorganizzate per dir così adesso riassumo grossolanamente hanno una loro fonte anche sul piano comparatistico a livello internazionale nella nascente scienza politica italiana faccio un riferimento per flash perché non posso parlare troppo a lungo e poi sono contento di aver ascoltato l'ottima relazione del professor Curreri faccio un attimo riferimento alla questione che lui ha definito del transfughismo che come sappiamo si è enormemente accentuata negli ultimi anni il gruppo misto grazie a Franco e forse anche Marco a chi ha avuto esperienze parlamentari alle origini fino a un certo punto fino al cambio del sistema elettorale sostanzialmente era un gruppo piccolissimo del tutto residuale era il gruppo della City Hall del Volkspartei e della Union Val d'Ottempo e al massimo uno due tre al massimo ma dovrei ricostruire dettagliatamente non c'è bisogno di farlo era un gruppo piccolissimo di tre quattro cinque che pur derogando al numeri richiesti per la costituzione di un gruppo al senato di dieci alla camera di venti erano però legittimati in quanto minoranze linguistiche parlo della Zittirol dell'alto adis eritirol e della valle d'aoste e sta da un certo punto in poi questa realtà è esplosa letteralmente debbo dire che la saggezza all'epoca secondo me di Pietro Ingrao quando presidette la camera portò a fare una cosa che oggi sarebbe inconcepibile cioè a derogare ovviamente con l'appoggio dell'ufficio di presidenza non poteva decidere da solo io ho fatto parte molte volte dell'ufficio di presidenza della camera ma non c'ero all'epoca di Ingrao 76 79 sono entrato con la Iotti per intendersi e derogò dal regolamento della camera e permise la costituzione di un gruppo di quattro erano i primi quattro radicali eletti con l'1,1 per cento se ricordo bene le percentuali con un quorum che scattò soltanto a Roma dove era nata da poco radio radicale grazie a radio radicale scattò perché ci voleva almeno i 300.000 deputati il quoziente e una circoscrizione Ingrao consentì la formazione di un gruppo di quattro oggi sarebbe del tutto oggi di quattro può essere una componente del gruppo MISLOM non un gruppo autonomo parlamentare però erano altri altri tempi altre epoche e non mi ricordo che ci siano state particolari proteste per questo e fra l'altro fu molto efficace quel piccolissimo gruppo tanto è vero che partiti in quattro alla volta dopo entrammo in 18 e con Franco Corleone corregimi all'epoca con due senatori radicali uno dei quali Gianfranco Spadaccia che è stato il nostro presidente di gruppo poi al senato nella decima legislatura gruppo federalista europeo ecologista perché c'era anch'io e al quale Gianfranco Spadaccia siccome so che non sta benissimo approfitto da qui per mandare un affettuoso saluto augurale dell'esplosione del gruppo misto Andrea tu mi hai chiesto di fare qualche riferimento anche alle esperienze personali e ho avuto un'esperienza diretta dall'opposizione nella legislazione quella lunga di Berlusconi dal 2001 al 2006 quando presedetti io il gruppo misto con molta arrabbiatura da parte della Volkspartei io ero stato eletto da un'alleanza Ulivo Svop nel mio Trentino Alto Adige nel collegio uninominale di Roveretto però l'Svop a quel punto erano tre e un gruppo che era diventato i 25, 30, 35, 40 aumentava in continuazione e nella prima riunione di quel gruppo elessero me presidente del gruppo e i miei amici tuttora amici guardate nonostante le differenze politiche della Svop e della Volkspartei parlo di Brugger e Zeller all'epoca si arrabbiarono moltissimo e un altro vecchio parlamentare dell'Svop è Riz che fu sia deputato che senatore anche presidente degli affari costituzionali alla Camera mi disse ma quelli credevano di avere la presidenza del gruppo misto per diritto divino non sa che in democrazia si vota non sanno che in democrazia si vota loro erano abituati a un gruppo di tre, di quattro, di cinque loro erano tre, avevano la maggioranza sui cinque e avevano la presidenza poi quando il gruppo è diventato molto ampio io avevo la rifondazione comunista a Mastella e forse qualcosa in là anche qualche esule da Forza Italia per esempio l'ex ministro della giustizia di Mancuso era venuto al gruppo misto avevo di tutto lì dentro ovviamente c'erano i verdi, c'erano i socialisti è un gruppo composito, complesso che comunque riuscì in senso molto blando a governare perché ovviamente ognuno aveva anche la sua autonomia politica ma senza grandi difficoltà, senza grandi conflitti ma era molto complesso da presiedere un gruppo misto e credo che quello ultimo che era ancora più ampio sia stato altrettanto e ancora più difficile da virgolette governare però è un segnale che solo da un certo momento in poi questo fenomeno del transfughismo che in passato era un'eccezione assoluta uno, due, tre su 630 o 315 e invece esplose esplose in quella che impropriamente viene chiamata seconda repubblica scusa professor Curelli non lo so, tu farai una replica poi tu non hai usata questa espressione io so che si usa correntemente qualcuno parla anche di terza repubblica ma non essendo cambiata la forma di governo a me pare che noi siamo comunque ancora nella prima repubblica seppur in una seconda o terza fase della prima repubblica perché la forma di governo non è cambiata è cambiata in parte la forma di Stato con la riforma del titolo quinto c'è stato un aspetto che il professor Curelli ha citato un po' di Anpassan io non voglio ripetere meccanicamente solo tutto quello che lui ha già detto se no non servirebbe nulla al mio piccolo contributo c'è da analizzare io lo dico sinteticamente la degenerazione io la chiamo degenerazione della sequenza delle leggi elettorali non tutto fu degenerato personalmente ho avuto avendo fatto 5 legislature alla Camera e 1 al Senato ho avuto l'esperienza di essere eletto con i radicali col proporzionale storico al Senato col proporzionale storico ma voi ve lo ricordate grazie Franco eravamo eletti su una uninominale però proporzionale non maggiorità il Senato aveva già l'uninominale ma proporzionale e anche con quello è stato eletto poi sono stato rieletto col proporzionale poi è arrivato il Maltarellum con i collegi uninominali con me è stata un'esperienza positiva che ho fatto per due volte e poi ahimè sono stato eletto anche col porcello l'ultima volta dal 2006 al 2008 quindi abbiamo il passaggio del sistema proporzionale fino è in vigore fino al 93 poi dopo il referendum elettorale del 18 aprile data storica nella storia italiana 18 aprile del 93 non del 48 c'è la legge Mattarella e da allora Sartori il politologo ha cominciato a denominare queste leggi ironicamente con questo sostantivo neutro il Mattarellum e poi siamo arrivati al Porcellum poi all'Italicum poi all'attuale Rosatellum anche se Sartori è morto purtroppo da qualche anno la legge Mattarella complessivamente a mio parere è stata una buona legge aveva qualche difetto dava spazio alle liste civette bisognava cambiare quell'aspetto tre quarti uninominale un quarto proporzionale nel 2005 il Porcellum ora io ho esperienza diretta di come è nato il cosiddetto Porcellum noi eravamo alla Camera in Commissione Affari Costituzionali a discutere di adeguamento dopo anche il censimento e dovendo correggere l'effetto delle liste civetta che indirettamente aveva provocato quella legge di adeguare la legge Mattarella ed eravamo da alcuni mesi però ci fu la pausa estiva al ritorno della pausa estiva in Commissione Affari Costituzionali noi centrosinistra eravamo all'opposizione ma stavamo collaborando non è che ci fosse stata scontro ma eravamo tutti d'accordo che bisognava adeguare il centro-destra in particolare all'epoca non mi ricordo quale sigla fosse forse CCD allora non era ancora Udc hanno cambiato tre quattro volte queste sigle questa componente ex-democristiana o post-democristiana a cui era legato il presidente della camera di allora che era Casini che oggi è nel centro-sinistra ma allora era presidente della camera per il centro-destra non fu complessivamente un cattivo presidente però fece una cosa inaccettabile cioè nel corso della commissione a rientro dalle vacanze chiedono di prorogare di riaprire i termini per gli ammendamenti che erano già chiusi per poter presentare un ammendamento e la volta dopo presentare un ammendamento interamente sostitutivo della legge elettorale chiunque di noi ha avuto esperienza parlamentare sa che sarebbe stato inammissibile e noi chiedemo a Donato Bruno che allora presideva per forza Italia di dichiararlo inammissibile lui disse no allora ci rivolgiamo al presidente della camera che era l'organo d'appello Casini e ahimè devo dire ahimè perché per altri aspetti non è stato un cattivo presidente Casini accettò dichiarò che era ammissibile totalmente sostituire la regge con un emendamento oggi chiunque facesse un'operazione del genere chiunque presedesse camera e senato anche grazie agli uffici ovviamente dichiarerebbe inammissibile ma così è nato quello che poi Sartori ha denominato Porcellum perché come voi sapete Calderoli che ufficialmente era il ministro delle riforme istituzionali ma che non fu l'autore di quella legge ne portò il nome perché era il ministro ma non fu Calderoli il giorno dopo l'approvazione col colpo di mano di quella legge disse abbiamo fatto una porcata e devo dire che fu sincero fra l'altro una porcata per vincere poi sia pure di poco le elezioni del 2006 le persero e vinse per la seconda volta sia pure di pochissimo il pro di due per intenderci l'Italicum come sapete con Renzi non è mai neppure entrato in vigore riguardava solo la Camera perché erano convinti a priori che passasse la riforma costituzionale chiamiamola Boschi anche lì la Boschi ha responsabilità politica però dietro di lei c'era uno staff di funzionari che hanno lavorato a quel testo comunque la Corte ha dichiarato in costituzionale l'Italicum prima ancora che venisse mai potuto che avesse mai potuto essere applicato e poi arriviamo al sciagurato Rosatellum però il PD continua a dire giustamente che è una pessima legge elettorale dimenticandosi che Rosati era del PD quando propose quella legge elettorale e che il PD la provò all'epoca non solo il PD ovviamente cioè è certo che Letta non è la stessa cosa di Renzi o di Rosato che adesso è di Italia Viva comunque pessima legge un terzo circa uninominali maggioritari e tre quarti proporzionali con liste bloccate ha fatto bene il professor Curreri a dire che di per sé in assoluto non è uno scandalo le liste bloccate dipende dal processo di formazione delle liste giustizia io ho una moglie tedesca sono amico dei verdi tedeschi e in Germania ci sono le liste bloccate ma per mesi all'interno di ciascuna non solo dei verdi di ciascuna forza politica i popolari i socialdemosti per mesi c'è una selezione accanita di chi andrà a far parte delle liste bloccate e di quale posizione nelle liste avasse primo secondo terzo perché si calcola grosso modo quale può essere il risultato elettorale e quindi se sei messo al primo al secondo posto nei partiti grandi o medio grandi adesso i verdi sono anche molto grandi in Germania sai che anche al terzo posto puoi essere eletto e altri sono a volte riempitivi però la selezione di cui parlava giustamente il professor Curreri è durissima dentro le forze politiche e solo così si arriva a conoscere mesi mesi non giorni mesi in anticipo la composizione delle liste e quindi in quel senso come Curreri ha detto non è uno scandalo in assoluto la lista bloccata e come ci arrivi ovviamente in Italia è uno scandalo assoluto perché non ci sono le preferenze che c'erano in passato ma sono liste bloccate decise o dal segretario o dai segretari o degli organi di vertice dei partiti sappiamo con quanti mal di pancia visto la riduzione del numero dei parlamentari che questo è avvenuto nei vari partiti quasi tutti per non dire tutti il professor Curreri io condivido ha usato un aggettivo molto forte sulla riduzione del numero dei parlamentari io la considero una follia e considero una follia che ahimè pressoché tutti i partiti scusate se cito ancora una volta il PD ma perché per quanto mi riguarda politicamente io faccio parte dei Verdi e siamo alleati alle elezioni del PD su proposta di Renzi all'epoca approvò la riforma io la chiamo la controriforma della riduzione drastica del numero dei parlamentari e poi anche nel referendum perché c'è stato un referendum al quale io ho votato per la soppressione ma è stata una minoranza da 630 a 400 da 315 più senatori a vita o di diritto a 200 io non escludo personalmente non so professor Cureri cosa pensa a riguardo una non avrei escluso personalmente una moderata riduzione del numero dei parlamentari che so io da 630 a 550 o a 500 da 315 a 275 o 250 realisticamente avrebbe potuto essere 500 e 250 ma non è uno scherzo da 500 a 400 o da 250 a 200 è molto rilevante anche per tutti gli aspetti ordinamentali regolamentari a cui giustamente il professor Cureri ha fatto riferimento e poi sono mancati anche tutti quegli adeguamenti di contorno fra virgolette che salvo l'ultima recentissima modifica del Senato e la mancata modifica del regolamento della Camera avrebbero dovuto esserci compresa la modifica costituzionale sulla elezione del Senato su base regionale che era in itinere in Parlamento ma le elezioni anticipate non hanno fatto approvare questa riforma compreso quella sulla insularità anche quella era stata approvata in prima lettura ma è rimasta l'inserimento dell'insularità nel 119 se non ricordo male tra gli altri aspetti della crisi secondo me il professor Cureri ha fatto bene a insistere sulla la crisi investe tutti gli aspetti ma noi siamo abituati a dire potere esecutivo potere legislativo o potere giudiziario anche se in Costituzione si dice ordine ai giudiziari quindi potere legislativo il Parlamento è o dovrebbe essere il potere legislativo ma in realtà questo potere è stato via via svuotato in modo così clamoroso io non ripeto tutte le tabelle che ci ha fatto vedere e leggere il professor Curreri i decreti legge inflazionati con la fiducia coarta per tenere insieme la legge per far passare rapidamente la legge questi maxi emennamento monstrum mille mille cinquecento commi al posto degli articoli la totale negazione appunto tu l'hai citato l'articolo 72 della Costituzione il primo comma è il caposaldo dell'esercizio del potere legislativo del 72 ogni disegno di legge presentato ad una camera è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa che la prova articolo per articolo e con votazione finale questo non succede più perché i cento duecento trecento articoli della legge bilancio diventano un unico articolo e per di più non solo la legge bilancio e per di più c'è il maxi emennamento con l'unico articolo e per di più c'è la posizione della fiducia la funzione legislativa del parlamento è finita non so se voi conoscete franco forse sì forse marco perdura io sono amico tuttora ma ero diventato amico quando era segretario generale della camera mauro zampini non so se qualcuno di voi questo nome vi dice qualcosa purtroppo è monteschea che si firma monteschea sui suoi 24 ore prima e su altri giornali da un paio d'anni sulla stampa di Torino dove scrive a mio parere brevi ma ottimi articoli monteschea cioè mauro zampini sistematicamente chiama alla responsabilità prima di tutto dei due presidenti di camera e senato totalmente irresponsabili a far rispettare l'articolo 72 della costituzione e la stessa corte costituzionale che a volte lancia dei moniti ma con scarsa efficacia quindi viene totalmente non dico totalmente ma gravissimamente ridotta l'iniziativa legislativa parlamentare la totale prevalenza del governo legislatore qui il professor Curelli secondo me è stato equilibrato cioè lui ha detto non è che mi scandalizzi che il governo che ha la sua maggioranza guidi diciamo il percorso legislativo questo non è uno scandalo in una democrazia parlamentare che abbia una sua funzione di governabilità quello che è scandaloso non è questo è come questo avviene e io non torno su tutte le cose che egregiamente lui ha analizzato la corte ho scritto qui ma sempre seguendo la sua traccia la corte costituzionale ordina anche a termine di fare dei progetti di dichiarare in costituzione dichiare in costituzione la norma da un anno di tempo al Parlamento da un termine ma il Parlamento non ha dempie nei tempi prefissati dalla corte quindi diventa inefficace anche la dichiarazione di incostituzionalità c'è la straccia quindi un abuso che io considero francamente incostituzionale dei decreti legge chiamiamoli inflazionati anche qua non è che c'è un'opinione di Curreri o in piccolo di Marco Boato è la violazione sistematica dell'articolo 77 della costituzione allora o lo cambiamo quell'articolo lo approviamo dico per paradosso oppure lo devi rispettare in casi straordinari di necessità ed urgenza eccetera eccetera i casi straordinari sono ordinari sono ordinari cioè ci si infila si governa con i decreti legge al 90% in passato qui Andrea mi permetto di fare un riferimento personale visto il tuo consiglio o suggerimento in passato adesso non c'è più ma non per merito del Parlamento o del governo c'era la sistematica reiterazione dei decreti legge non convertiti in legge cioè violando palesemente l'articolo 77 quando un decreto legge non convertito in legge stava per scadere il giorno prima i vari governi che si succedevano perché i governi si succedero mediamente uno all'anno poco più poco meno iteravano il decreto legge io ho un'esperienza personale da questo punto di vista che qualcuno di voi conosce Andrea Pugiotto la conosce della riforma io la chiamo contro riforma comunque è stata una riforma dell'articolo 68 della Costituzione anno di grazia 1993 da quel momento tutti i governi che si sono succeduti quindi forse c'era Dini all'epoca poi c'è Prodi tutti i governi che si sono succeduti fanno un decreto emanano un decreto legge di attuazione del riformato io dico contro riformato articolo 68 tutti se non ricordo male perché non sono andato a controllare 16 decreti legge di iterazione dello stesso decreto legge di norme ordinarie di attuazione dell'articolo 68 riformato che è norma costituzionale a un certo punto qui devo dare atto positivamente alla Corte Costituzionale la Corte interviene e dichiara giustamente incostituzionale l'iterazione di decreti legge non convertiti in legge con l'aggiramento sistematico dell'articolo ma non so se tu ti ricordi Franco c'era un decreto legge sui lamelli branchi una roba del genere anche quello è una roba che veniva iterato continuamente il decreto legge sui lamelli branchi era una cosa comunque la Corte secondo me giustamente perché la Corte fa degli errori ma fa anche delle cose giuste grazie a Dio e a noi dichiara incostituzionale questa procedura questa iterazione non succede nulla cioè 16 decreti legge e poi il governo e il resto del Parlamento non fa nulla qui ho preso da solo iniziativa di prendere l'ultimo decreto legge non convertito in legge l'ho tradotto io in proposta di legge parlamentare da solo a mia sola firma e con un iter molto complesso alla fine è stato approvato guardate paradossalmente io ero il presentatore e il relatore ed è stato approvato col mio voto contrario perché perché passato al Senato Maccanico aveva fatto una proposta ragionevole e Forza Italia sostanzialmente se ne appropriò e la estese in modo indeterminato una proposta a garanzia dei cinque vertici istituzionali del nostro paese ed era palesemente incostituzionale quindi quando la legge tornò con l'articolo 1 modificato in questo modo io che ero il presentatore il relatore se voi andate su internet trovate ancora legge Boato la 140 del 2003 trovate ancora legge Boato però legge Boato che Boato non ha votato per contestare il colpo di mano fatto al Senato e anche qua Andrea la Corte Costituzionale è intervenuta e poi ha dichiarato incostituzionale quell'articolo 1 e dichiarò incostituzionale anche un'operazione analoga fatta successivamente dal Fano ah beh certo cinque cariche perché una delle cinque era Berlusconi ovviamente adesso vado a concludere ha fatto bene il professor Curreri a parlare lo accennava a bassavoce anche Franco Corleone su quello che è diventato un monocameralismo di fatto quindi non si è riusciti non è semplice a superare il bicameralismo cosiddetto perfetto o paritario ma di fatto ormai con i tempi che ci sono una Camera Camera o Senato approva un testo anche con emendamenti con la logica che fra l'altro è stata ricordata di intrusione dentro il procedimento del legislativo fuori dall'articolo 77 e però l'altra Camera siccome i termini stanno scadendo è obbligata a votarlo senza modifiche abbiamo questa eccezione di questi giorni su quella norma sciagurata su cui Draghi ha avuto scusate non credo di rivelar segreti un rapporto informale con Mattarella perché forse Perduca dalla sala diceva prima potrebbe intervenire il Presidente della Repubblica è vero ma il Presidente della Repubblica avrebbe potuto intervenire bocciando tutto il decreto legge che tu hai ricordato che non può quindi per evitare questo ha convinto Draghi a ordinare alla sua maggioranza quella che resta di cassare quella norma sciagurata e il Senato che si era già congedato martedì si deve riunire nuovamente e qui c'è una terza lettura che è quasi un caso eccezionale è stato ricordato giustamente che i vari moniti ahimè spesso disattesi dei Presidenti della Repubblica spesso l'inefficace controllo della Corte Costituzionale che demanda tutto al Parlamento qui fra l'altro c'è un problema complesso a cui tu accenni una parentesi della tua relazione non so se l'hai letta perché io ho letto il PowerPoint il fenomeno la questione bexata a questio della autodichia del Parlamento perché perché è una questione molto complessa e molto dibattuta e poi c'è e questo giustamente Curreri l'ha fatto io lo dico la complice passività dei Presidenti delle Camere e la dimostrazione della totale inadeguatezza nella fase recente dei Presidenti delle Camere ma anche i migliori tu hai detto ottimo io direi buono Presidente della Camera Violante con il quale ho avuto un ottimo rapporto che è stato Presidente dal 96 nel 2001 anche i migliori qualche volta hanno avuto qualche problema anche qua Andrea se permetti ho quasi finito cito perché tu mi hai suggerito di fare riferimento alla mia esperienza parlamentare strage del Cermis un aereo americano dei Marines ma aereo base ad Aviano qui in Friuli deve tornare in patria e quindi si concede una ragazzata prima di tornare in patria viene da noi in Trentino in Val di Fiemme a fare una scorribanda ma invece che fare la scorribanda già pericolosa in una piccola valle come la valle di Fiemme almeno a un'altezza di sicurezza decide di passare sotto la funivia del Cermis che già aveva avuto una strage anni prima perché si era rotta una corda ma qui funzionava perfettamente l'aereo americano passa sotto e siccome non è abbastanza sotto perché anche ha rischio di finire a terra una funivia spezza il cavo della funivia 20 morti per una ragazzata o per una goliardà 20 morti salvo il macchinista italiano tutti gli altri di 5 nazioni europee io li ho anche i familiari li ho conosciuti perché ero parlamentare del Trentino e facciamo una commissione d'inchiesta è una delle poche volte alcune volte in cui la commissione d'inchiesta ha funzionato bene abbiamo fatto un ottimo lavoro avevamo degli ottimi consulenti fra cui un generale dell'aeronautica militare di nome Battisti spero che sia ancora vivo non lo più era bravissimo e abbiamo deciso di fare la commissione d'inchiesta e siamo andati al pentagono cioè volevamo andare al pentagono poi siamo andati al pentagono al ministero della difesa degli stati nessuna mai commissione parlamentare di nessun paese era mai entrato al pentagono mai decidiamo di andarci e decidiamo nell'ufficio di presidenza di cui facevo parte anche io della commissione d'inchiesta di deliberare questa cosa l'ottimo ma non ottimo in questo caso presidente Violante non vuole perché l'ambasciatore italiano pessimo a Washington dice ma come l'Italia come si permette di andare al pentagono a sindacare su quello che fanno gli americani eccetera l'ambasciatore chiede a Violante di proibirlo Violante di fatto non ci dà il permesso poi ce l'ha dato vi ripeto finisco questa cosa cosa succede nell'ufficio di presidenza della commissione come credo tutti voi sappiate c'è sempre uno o a volte anche due funzionario della camera che è il funzionario della commissione ma che dipende dal segretario generale e dal presidente della camera io in quell'ufficio di presidenza quindi senza verbale ufficio di presidenza non seduta senza stenografico dico beh se il presidente della camera ce lo impedisce noi siamo un organo che ha la sua autonomia ha gli stessi poteri della magistratura dice la costituzione io vi propongo che solleviamo un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato cioè tra la commissione parlamentare di inchiesta sul cermis e il presidente della camera e basta ho suggerito io ma guardate non c'è un verbale c'è la mia memoria e quella degli altri presenti c'era però il funzionario della camera è bastato questo perché finita la riunione il funzionario della camera ha riferito e il giorno dopo Violante ci ha dato il permesso perché se no avremmo fatto sollevato un conflitto di attribuzione noi fra l'altro la maggioranza era centrosinistra in quella commissione ma erano d'accordo tutti quanti solleviamo conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato mi viene in grande di ricordare in grande questo è in piccolo e non è avvenuto quando Ciampi presidente della repubblica solleva conflitto di attribuzione in materia di grazia contro il pessimo ministro della giustizia Castelli e vince per fortuna alla fine Ciampi fallimento di tutti i tentativi di riforma complessiva il professor Curreri l'ha ricordato Anpasan ve lo ricordo un attimo più esplicitamente ma molti di voi sanno a memoria queste cose tentativi di riforma della seconda parte della Costituzione compreso il Parlamento Commissione Bozzi che aveva solo poteri consultivi non referenti nella nona legislatura Commissione De Mita Iotti nella undicesima legislatura durante la quale fu guarata una legge importantissima l'elezione diretta dei sindaci che ha cambiato la forma di governo comunale faccio un piccolissimo ricordo su De Mita Iotti qualcuno di voi che non conosce questa storia dice perché Bozzi ma De Mita Iotti perché ci sono stati due presidenti prima De Mita e poi La Iotti ma perché siamo all'epoca di Tangentopoli di Mani Pulite delle riunioni Marco alle sette del mattino convocate nell'auletta dei gruppi parlamentari da pannella con i parlamentari inquisiti siamo in quell'epoca di terrore all'interno del Parlamento De Mita poi stato nella sua parte di presidenza un buon presidente era anche molto attento lui sentiva legato alla lezione di Roberto Ruffilli anche se Ruffilli era purtroppo stato ucciso dalle brigate rosse il cittadino come arbitro eccetera De Mita ha un fratello non lui un fratello che riceve una comunicazione giudiziaria per inciso vi dico che alcuni anni dopo il fratello è stato totalmente proscionto ma comunque era il fratello quello è bastato nel clima di allora per costringere De Mita a dimettersi e io umilmente rivendico di essere stato l'unico membro di quella bicamerale a oppormi inutilmente ero solo a oppormi ma non occorre essere eroi del garantismo per dire che se un fratello ha un eventuale problema giudiziario che poi si è risolto positivamente tuo fratello non hai l'obbligo di De Mita De Mita comunque si dimise non fece tante storie io gli dissi stai sbagliando e lo dissi a tutti gli altri parlamentari guardate c'era Andreotti Forlani c'era Miglio c'era era una commissione c'era Segni c'era una commissione diciamo molto ricca però anche quella abortì con il scioglimento anticipato delle camere con un governo in carica che aveva la maggioranza Ciampi aveva la maggioranza ci fu lo scioglimento anticipato delle camere anche questa è una cosa che secondo me pochi ricordano ma io trovo una gravità enorme terza commissione della De Mita Iotti come avete capito io ho fatto parte terza commissione e ultima bicamerale la D'Alemma della tredicesima legislatura anche quella fallisce non sto a raccontarvi io ero il relatore sul sistema delle garanzie magistratura corte australe corte dei conti consiglio di stato autorità indipendente c'è un lavoro complesso ma abortito però dopo il fallimento la chiusura la sospensione di quella commissione sospensione definitiva abbiamo comunque approvato con procedure ordinarie invece del 138 la elezione diretta dei presidenti delle regioni che c'è tuttora in vigore e quella riforma dell'articolo 111 della Costituzione con la costituzionalizzazione dei principi del giusto processo di cui personalmente sono molto orgoglioso perché era un pezzo della proposta che io avevo fatto nella bicamerale D'Alema e che comunque è l'attuale 111 della Costituzione che è un ottimo articolo anche i messaggi dei presidenti della Repubblica anche questo l'ha accennato il professor Curreri non hanno mai avuto qualche esito ma in particolare Grazia e Franco se lo ricordano che eravamo tutte e tre al Senato all'epoca il messaggio del presidente Cossiga sulle riforme istituzionali la caduta del muro di Berlino lo scompaginamento del sistema politico la fine della guerra fredda eccetera Cossiga aveva i suoi alti e bassi aveva i suoi luci e ombre non c'è ombra di dubbio ma aveva intuito il passaggio epocale che si stava verificando un consistente messaggio presidenziale abbiamo fatto al Senato e anche alla Camera due ampi dibattiti ci sono due volumi che raccolgono questi dibattiti ma esito zero concludo con un tema che forse il professor Curreri non ha accennato perché non era neanche il suo compito oggi si prospetta in modo generico per il dopo 25 settembre una qualunque forma pur che sia di virgolette presidenzialismo all'americana alla francese eccetera o in alternativa ma sembra che ormai siamo alla carce qualcuno ha ripreso questa espressione secondo me sciagurata dal punto di vista costituzionale del sindaco d'Italia come se si potesse eleggere direttamente il presidente il capo dell'esecutivo quando come tutti noi sappiamo in costituzione la nomina del presidente del consiglio appartiene al presidente della Repubblica ovviamente tenuto conto dei risultati delle elezioni ma tutto questo sta avvenendo anche nel dibattito preelettorale scarso al riguardo con un enorme pressapochismo con una mancanza di visione perché non è impossibile cambiare ma una totale mancanza di visione di insieme della forma di governo dei pesi e dei contrapesi cosa vuol dire una elezione diretta ci sono presidenti eletti direttamente il mio amico verde Alexander Van der Bellen è presidente eletto direttamente dal popolo in Austria ma non ha poteri esecutivi come ha invece il presidente Macron e con tutti i problemi dell'eventuale coabitazione per adesso non c'è ma in passato c'è stata cioè pesi contrapesi come se si potesse usare una formula un presidenzialismo all'americana no io preferisco il semipresidenzialismo però ci metto anche la sfiducia costruttiva che non c'entra nulla che è il modello tedesco ma questo Curreri lo sa Andrea lo sa era già in una proposta di legge a prima firma Meloni in questo Parlamento in questa Camera è stata discussa e bocciata perché era un pasticcio e adesso viene tutto riproposto con una superficialità e con una genericità e anche una confusione costituzionale e istituzionale da far paura l'ultimo guardate che io non sparo a zero a prescindere il risultato elettorale sarà quello che sarà sapete che il primo che in Italia incostituente Bagliani parlò di presidenzialismo per dirne uno ma il primo che ha ripreso il tema del presidenzialismo fu Craxi fine anni 70 in anni 80 probabilmente all'epoca con suggerimento di Giuliano Amato all'epoca a cui faccio molti auguri visto che domani cessa dal suo ruolo di presidente della Corte ma a passare e chiudo scusa sono stato troppo lungo anch'io no ma tu dovevi essere lungo che è il relatore vi domando scusa a voi se ho abusato di qualche minuto a passare in una intervista recente proprio di una settimana fa Giorgia Meloni ha detto ma potremmo fare una commissione bicamerale allora io ho fatto parte di due commissioni bicamerali della seconda e ultima con poteri referenti la prima bozza avevo solo poteri consultivi sono stato uno dei quattro relatori fatto anche molto contento di quel lavoro che però ha avuto solo esiti parziali a latere con l'elezione diretta dei presidenti della regione con i principi del giusto processo costituzionalizzati nell'articolo 111 a qualcosa comunque è servito ma l'impianto complessivo è crollato riproporre col clima che ci sarà politico e anche economico sociale internazionale che ci sarà dopo che c'è già oggi ma che ci sarà dopo 26 settembre una commissione bicamerale ripeto un'esperienza che io ho fatto mi viene da dire e concludo con questo errare umanum est perseverare diabolico grazie e buon dibattito bene veramente grazie per questo cavalcata verso gli anni che abbiamo percorso lungamente e a questo punto ci sono tutti gli elementi per interventi mi pare che la prima richiesta che avevo avuto è di grazia zuffa adesso Marco per duca e poi proseguiamo io lascio questa la postazione allora come vabbè così c'è il microfono c'è il microfono pronto no vabbè stai lì no scusate mi sarà molto breve voglio fare solo un ragionamento e una domanda anche un po' un chiarimento rispetto a questa questione centrale posta alla fine del ruolo dell'opposizione in Parlamento su cui sono perfettamente d'accordo meno e tra parentesi noto che come dire implicitamente anche prima che la città si era in tutta la la relazione in questo veniva fuori l'unica cosa che vorrei un chiarimento su l'ultima affermazione se ho capito bene non è tanto il rapporto Parlamento Governo quanto appunto il ruolo dell'opposizione in Parlamento che va affrontato ora a me sembra che in realtà le due questioni siano strettamente collegate nel senso che l'esecutivo è l'espressione della maggioranza quindi già in questo debordare diciamo dell'esecutivo della funzione legislativa c'è una relazione con la compressione dell'opposizione la compressione delle minoranze e io credo non so se che è anche utile vedere un po' l'impalcatura ideologica che sorregge questo debordare dell'esecutivo nella funzione legislativa ora a me sembra che un elemento di questa impalcatura sia una concezione manageriale del governo molto mi verrebbe da dire come se il presidente del consiglio fosse l'amministratore delegato dell'azienda Italia quindi molto centrata sui principi di efficienza e di efficacia delle decisioni di raggiungimento degli obiettivi eccetera ma è appunto come dire un potere che non ha presente come appunto nel sistema democratico tutta una serie di regole e di pesi e contrapesi che sono importanti sono importanti ora quindi insomma diciamo che questo va tenuto presente perché io penso naturalmente la svalorizzazione delle minoranze no che poi è la svalorizzazione appunto delle opposizioni in Parlamento è a mio avviso in relazione con l'indebolirsi come lei a un certo punto ha ben sottolineato del Parlamento come luogo del confronto fra maggioranza e minoranza e così via ora e ho trovato molto suggestivo l'immagine del teatro di quello che ora è diventato un teatro ora tra parentesi sono pienamente d'accordo su quello che già diceva e ora sottolineava boato che questo è in relazione al taglio dei parlamentari notate che nel linguaggio politico non si parla di riduzione del numero dei parlamentari si parla di taglio perché si vuole sottolineare da un punto di vista ideologico che si sta tagliando un ramo secco si tagliano i rami secchi la riduzione del numero parlamentare è un'altra cosa ora rispetto a questo ritornando alla sua immagine del teatro appunto diceva non si ascolta si sta facendo uno show per gli elettori non si ascolta gli altri parlamentari gli altri di idee diverse ho cercato anch'io di andare un po' a scavare in quello che era la mia esperienza nei lontani anni 80 primi anni 90 allora lì bisogna fare secondo me un po' una precisazione rispetto all'enorme diciamo ambito di normativa che il Parlamento copre un'ipertrofia legislativa probabilmente anche in ambiti che si potrebbe benissimo non affrontare tramite leggi e questo naturalmente ha un riflesso sull'attenzione nel senso che mi ricordo io ovviamente su tantissime leggi di scarso rilievo politico diciamo così non stavo a sentire invece quando si trattava di leggi importanti diciamo politicamente importanti e come se stavo a sentire l'opposizione e come che io credo la stragrande maggioranza dei parlamentari allora stavano a sentire e l'ultima cosa che voglio dire è questo però ritornare appunto al nodo all'importanza del confronto all'interno del Parlamento con l'opposizione secondo me è importante anche per ridare il giusto significato alla mediazione perché giustamente appunto lei citava la questione che adesso qualsiasi forma di mediazione viene bollata da inciucio il problema è che viene non per difendere quelli dell'inciuscio perché odio il termine in tutte le diciamo in tutte le sue possibili versioni e odio chi lo usa però volendo sempre vedere anche in qualche modo le ragioni degli avversari che non è mai male c'è una qualche ragione cioè è inciucio perché come dire non c'è la limpidezza del confronto non c'è la limpidezza della dialettica politica da cui discende le ragioni della mediazione e quindi un'idea alta della mediazione è inciucio quando tutto è opaco e di conseguenza la mediazione è semplicemente ridotta a una contrattazione di potere quindi insomma mi rendo anche conto per finire come le questioni sono complesse tutte in qualche modo collegate che dobbiamo approfondire grazie grazie per duca inizio non per diciamo per motivo personale ma per motivo politico la lista pannella fu creata nel 1992 e secondo me rimane l'unica che ha avuto il coraggio di chiamarsi lista col nome della persona ma aveva un sottotitolo era lista pannella per il partito democratico fin dall'inizio come a dire che quello diciamo è il sicuramente nome tutelare padre padrone direbbero alcuni o leader carismatico ma aveva una specificità politica per cui era stata creata poi diciamo furbescamente dal 96 ci fu la lista cittadini che è stato il primo a mettere il proprio nome con risorgimento di non mi ricordo che cosa di se stesso proprio un giallo riascimento italiano scusate tutte le altre avevano un nome ereditato da un certo tipo di tradizione poi stampigliato enorme in nome del leader che non dava il nome della lista del partito ma utilizzava la visibilità per tutte le cose che sono state dette prima relativamente o alla terza camera o oggi ai social di riconoscibilità o comunque di marchio del prodotto perché siamo in effetti in una parte così quindi io non avendo il potere di perdonare nessuno ti perdono comunque ma insomma ci tenevo a specificare questo qua volevo un po' o aggravare alcune dei passaggi repubblicani ricordati dal professore poco fa facendo qualche passo indietro di qualche almeno di quelle che io ho seguito maggiormente finché vivevo in Italia grazie a Radio Radicale perché non è detto che solo le ultime due legislature abbiano avuto dei pessimi presidenti delle camere anzi quelli che le hanno precedute in almeno due o tre passaggi hanno fatto cose ancora più grave dal punto di vista della legalità costituzionale nella quattordicesima legislatura dove alla camera c'era Casini così così ma dove al senato c'era Pera e ce lo ritroveremo presto Pera probabilmente si è conclusa la legislatura senza la proclamazione di almeno undici seggi più incostituzionale di questo io credo non ci sia dopo mesi se non anni di mobilitazione dentro e fuori le camere con scioperi della fame e della sete e maratone oratorie che vi lascio immaginare quanto possono aver occupato l'etere di radio radicale si riuscì in virtù dell'interna corpore ad adottare una risoluzione per cui la quattordicesima legislatura si concludeva con undici seggi in meno alla camera dei deputati e qui abbiamo due se non padri della patria ma insomma persone che sono passate alla storia per non essere pessimi o comunque diciamo criticabili la successiva invece interessò in particolare al senato la famigerata proclamazione non proclamazione di tre seggi al senato che avrebbero secondo diciamo un dibattito che ha portato diciamo vivaci scambi all'interno della maggioranza dell'unione non proclamare tre senatori che secondo i calcoli matematici appartenevano alla rosa nel pugno e che invece sono stati distribuiti guarda caso anche a un membro della commissione della giunta parlamentare che doveva decidere su se stessi queste sono cose che vanno tenute presenti ma la e qui parlo per esperienza personale la sedicesima legislatura ha visto un ulteriore aggravamento di questo non solo sulla decretazione secondo me professore se prendi in considerazione gli ultimi vent'anni o basterebbe la quindicesima legislatura quel governo Prodi credo che batta a tutti dal punto di vista di decretazione d'urgenza il governo Prodi che noi sappiamo si reggeva per il famoso pallaro senatore argentino e qui poi si potrebbe e poi torno a quello che secondo me è il nocciolo del problema che non esclude questa grandiosa stupidaggine incostituzionale dei seggi all'estero che sono diciamo una delle peggiori innovazioni chiamiamole così le riforme che sono state partorite negli ultimi vent'anni perché noi qualcuno che non è mai stato non conosce o non è nessuna risorsa per il paese come dicono quelli in Italia elegge delle persone basta qualcuno che con un voto paradossalmente può reintrodurre la pena di morte in Italia senza che gli elettori di quello che ha reintrodotto la pena di morte ne subiscano alcuna conseguenza a parte quello ma dico facciamo un esempio più clamoroso che potrebbe verificarsi sperando di no anche se ogni tanto si legge che qualcuno invoca la pena di morte per cose diciamo di un certo tipo però è uno degli aspetti che sono parte dell'inciucio non di alcun compromesso ma quello fu veramente un inciucio che però fu dovette essere in qualche modo bilanciato perché c'era il terrore che comunque essendo tutti di estrazione e di destra avrebbero fatto un ulteriore pieno che superiore a quello che se non sbaglio non portò al definitivo passaggio di un sistema non inominale perché si diceva che da Roma in giù comunque tutti i seggi sarebbero stati vinti per un voto dalla destra e quindi avresti avuto una stragrande maggioranza contraria ai partecipanti all'inciucio quindi anche la quindicesima legislatura secondo me non aiuta particolarmente ad abbassare o a far pensare che ci sia un passato mitologico in cui o il governo o il Parlamento si comportavano in linea con le Costituzioni e qui non apro il capitolo Presidente della Repubblica perché diciamo ne abbiamo parlato a colazione stamani ma ci trerei a ricordare però che Napolitano non firmò il famoso decreto Eluane-Englaro salvo vederselo ripresentare 48 ore dopo con due o tre modifiche e a quel punto non potendo rifirmarlo ogni tanto qualcuno però si assume la responsabilità di bloccare qualcosa di patentemente se non incostituzionale comunque diciamo così manipolato politicamente il problema è che dubito che questo esercizio di di una proroga presidenziale poi scaturisca diciamo un ravvedimento operoso da parte di chi insiste nel con determinati tipi di nomi è vero che poi diciamo lì non si saprà mai perché morì Eluane-Englaro nel giro di poche ore ma quel dibattito parlamentare dove si menarono chiaramente fu simbolico di determinati tipi di cose e qui arrivo allo stadio io sto per pubblicare un libretto che si intitola Sgorga tumulto che è uno degli articoli del regolamento almeno del Senato e che poi si intitola Pinzione Funzione ma non fazione politica dove un senatore che si chiama io che però potrei essere io e infatti sono io laddove uso i miei atti parlamentari poi racconta un po' di cose che avvengono e arrivo alla fine della sedicesima legislatura dove è stata adottata la riforma della professione forense partendo dal Senato senza un voto che si sia tenuto col numero legale e per richiedere la verifica del numero legale occorre che almeno 12 senatori sostengano la richiesta di un senatore che ero io o la senatrice Poretti che a turno per tre giorni andavamo in aula esclusivamente per chiedere la verifica del numero legale e solo l'ultima richiesta delle 50 ha trovato il dodicesimo che ci ha detto sì a quel punto avevano chiamato la gente dal mare dai monti dovunque fossero e hanno per tre volte registrato un voto elettronico questa è arrivo al problema dei problemi è un qualcosa che al Senato non mi pare che sia rientrato nella modifica del regolamento cioè al Senato ancora si vota per alzata di mano come se fossimo ai tempi di Cavour no perché io ascoltando la camera il Senato a Radio Radicale tutte le mattine e se non c'è un capogruppo che ti dice che per tutti i voti è stata richiesta il voto elettronico automaticamente non si fa ci vuole qualcuno che si assume la responsabilità di chiedere il voto elettronico e eventualmente laddove si fa il voto per alzata di mano chiedere la verifica o la controprova anzi per cui chiudono le porte con la spranga e poi chi c'è c'è e allora lì si vota elettronicamente per vedere questo perché noi nella sedicesima legislatura era interessante la slide di prima relativa alla ratifica dei trattati internazionali noi abbiamo ratificato un arretrato infinito di trattati internazionali spesso alle volte di dieci anni cose che appunto a pensarci fanno per chi ce l'ha drizzare i capelli in quattro perché venivano messi all'ordine del giorno nella tarda mattinata di giovedì e chi è senatore sa che nella tarda mattinata di giovedì ci sono i saluti lo spritz perché tutti tornano a casa o vanno nel collegio a fare politica cioè non c'era nessuno per ratificare i trattati internazionali al contrario la legge europea che dovrebbe essere una delle fonti principali se non per certi versi è stata tenuta in sospeso mi pare alle volte per tre o quattro anni con la scusa degli esperimenti sugli animali che ha bloccato tutta una serie di altre misure che non sono state incorporate per molto tempo io vi ho compreso la famigerata decisione Gai sulla penalizzazione delle droghe leggere perché appunto nessuno se ne interessava e non è un caso che la commissione affari europei sia la quattordicesse cioè l'ultima della lista delle commissioni fisse avrei altre 1500 cose ma chiudo con queste due cose uno oltre alla corte costituzionale noi fortunatamente negli ultimi mesi abbiamo avuto delle pronunce anche della corte europea dei diritti umani perché se non fosse stata per la famigerata sentenza Torreggiani in Italia alcune minime modifiche relative al sistema penitenziario o addirittura al codice penale non sarebbero mai state prese in considerazione indipendentemente da quello che diceva e non diceva nulla la corte costituzionale indipendentemente da quello che non diceva il presidente della repubblica malgrado le sollicitazioni esterne venute da pannella e malgrado la autoconvocazione del senato della repubblica avvenuta nell'estate del 2012 grazie a Poretti Perduca e Bonino che è la seconda volta nella storia della repubblica avveniva la prima volta è stata per la fame nel mondo la camera dei deputati la seconda volta è stata per amministia indutto deperantizzazione decarcerizzazione Napolitano poi inviò il messaggio alle camere la primavera successiva con parole durissime per certi versi che scaturirono quello che hanno scaturito cioè poco ma se non ci fosse stata la pronuncia della Corte Europea dei diritti umani saremmo ancora lì a lamentarci cioè noi sicuramente non ci siamo mai noi presenti dico non ci siamo mai spostati non dico dal garantismo ma insomma dai diritti umani ecco chiamiamole così e dal controllo del diritto penale però la terrei come ulteriore possibilità di controllo il problema con cui è iniziata la relazione professore è parlando dei partiti i partiti oggi sono una via di mezzo fra TikTok e una caserma cioè tu devi obbedire a degli ordini che sono insindacabili perché ti hanno messo lì perché i sistemi elettorali sono fatti come sono fatti e poi se sei caruccio e sai parlare o sei scemo forse meglio vai bene sui social e con quello si risolve il problema allora come si affronta questa questione dobbiamo tenere di presente una commissione o comunque come si è io ho detto ieri il ritorno alla Costituzione noi abbiamo l'articolo 49 della Costituzione che è praticamente lettera morta da sempre qual è il partito che negli ultimi vent'anni ha fatto un congresso un partito che ha una rappresentanza significativa in Parlamento che ha fatto un congresso forse più piccoli quelli sì ora non so se i verdi fanno ancora il congresso fanno un congresso di eletti o di delegati di delegati il mio partito che per fino a sei anni fa era il partito radicale che comunque non era presente in Parlamento ma aveva delle sottospecie che si riunivano aveva un congresso per partecipazione diretta noi abbiamo salutato con grandi articoli di stampa l'introduzione delle primarie con rispetto parlando nel partito democratico che è una lotta per bande senza regole che non siano pagare un euro e chi vince poi è quello che lo farà e che eventualmente si conclude con una mega convention appunto all'americana dove chi ha vinto poi dirà che cosa farà e poi parte la lotta per preparare le liste ma tutti gli altri non fanno assolutamente nulla questo è un problema che credo va o è causa o è effetto della qualità della classe politica classe dirigente che è sempre più cedo e che deve essere eletto e qui starei attento alla transumanza dei parlamentari con l'articolo 67 perché fino a quando noi non abbiamo un vincolo di mandato dal momento in cui qualcuno è eletto rappresenta la nazione come si dice no? perché noi dobbiamo creare un meccanismo per cui chi cambia casacca insomma chi cambia idea o chi è stato zitto fino al momento in cui l'hanno messo in lista ma si sapeva che non era particolarmente d'accordo ma voleva fare il parlamentare una volta che entra alla Camera al Senato deve essere legato mani e piedi lì o punito perché incluso nel gruppo dei non iscritti come io credo non politicamente motivato a sufficienza al Parlamento europeo è un gruppo dei non iscritti che in virtù di non essere iscritti cioè di non appartenere a una famiglia politica coerente dal punto di vista filosofico ideologico e se uno va a vedere all'interno del PPE appunto ci trovi da la CDU alla CSU fino a Orban ancora oggi e quindi poi qualcuno ci spiegherà qual è il terreno comune di questo tipo o anche all'interno dei liberali per dire c'è il liberale di destra il liberale di sinistra e come si fa noi a penalizzare qualcuno perché non è solo una questione economica se tu vuoi presentare emendamenti ordini del giorno avere del tempo per il dibattito se ci sarà un gruppo che è meno gruppo degli altri avrà meno minuti a disposizione già ci sono i tempi contingentati per gli interventi addirittura anche alle volte in commissione ma sicuramente in dibattito generale se questi che non faranno più neanche parte del gruppo misto e saranno un gruppo meno uno dal punto di vista dei diritti si andrà ancora una volta contro la Costituzione quindi sicuramente è necessario forse un problema di analisi e di proposta stante però la necessità di continuare a far di tutto per rispettare la legalità costituzionale che è quella che ci dovrebbe interessare maggiormente grazie grazie Maria Luisa Boccia tanto approfitto per dire che la lettura che io do dell'articolo settantasette è legato alla libertà di opinione di voto e non alla disciplina di partito ma non non può essere esteso appunto abbandono diciamo della sigla ma semmai un rafforzamento della lotta politica all'interno anche del proprio partito ma se dopo di che eh andiamo avanti in questa discussione che eh ha una sovrapposizione fra il problema del Parlamento e quello dei partiti ma questo lo affronteremo poi nel pomeriggio anche se sono legati e il problema che dobbiamo poi fare uno sforzo è se abbiamo delle idee sull'uscita dalla crisi e questo mi rendo conto che non è facilissimo ma dobbiamo nella discussione fare trovare delle indicazioni Maria Luisa Boccia sì io ringrazio sinceramente e vivamente il professor Salvatore Colveri per la relazione che ha fatto perché ci ha dato un quadro e una diagnosi della crisi del Parlamento che va come dire studiata profondita valutata ripresa per appunto il che fare pressoché in ognuno degli aspetti che ha affrontato prima considerazione perché mi riallaccia a quello che diceva da Franco Corleone senza vincolo di mandato bene se non ci fosse stata questa formulazione nella Costituzione Pietro Ingrao non avrebbe potuto parlare votare in dissenso sulla partecipazione dell'Italia alla guerra del Golfo io non avrei potuto operare nella Commissione Giustizia sulla questione del suicidio dell'etanasia nella Commissione Giustizia in seduta congiunta con quella salita perché nel gruppo di rifondazione comunista veniva ritenuta da una parte consistente del gruppo una scelta rischiosa perché permetteva di risposta della vita per esempio c'erano non familiari insomma c'erano obiezioni molto forti eh sì insomma tutta una serie di posizioni che avevano non erano strettamente individuali ma avevano un rapporto con culture esperienze pratiche partecipazioni no appunto movimenti associazioni e lotte nella società che non si erano espresse in liste politiche in gruppi politiche vedevano singole personalità presenti in gruppi politici che avevano un'altra no dei partiti dei formati e con altri criteri come nel mio caso io non ero iscritta di fondazione ero stata diciamo scelta indicata selezionata per i rapporti che avevo con le femministe di rifondazione che erano una componente rilevante in quel partito quindi starei molto attenta su questo perché è una c'è una è un'assunzione di responsabilità ed è una garanzia del dissenso e francamente io potrei che questo nel parlamento ci fosse venendo a considerazioni più intanto mi viene da dire che un primo giudizio una prima pesante sintesi della relazione del professor Culveri è che il parlamento è il primo e il peggiore nemico di se stesso se stiamo alla prassi parlamentare e quindi va presa molto sul serio cosa vuol dire di dare centralità al parlamento deve cambiare la composizione il modo di funzionamento il ruolo delle presidenze cioè deve cambiare il parlamento per quello che è divenuto anche restando come dire invariate perché vorrei sottolineare questo aspetto le trasformazioni più pericolose più deleterie sono avvenute sul piano della prassi politico istituzionale su tutti i versanti che si parli di partito che si parli della corte costituzionale che si parli del parlamento che si parli del governo sono venute sul piano della prassi quindi a quello dobbiamo prestare una grande attenzione perché se no siamo lì a dire no cambiamo questo cambiamo questa formula cambiamo questa regola e però poi dopo non è detto che questo influisca abbia influenza sulla prassi per l'appunto la prima questione del in termini appunto di prassi politica è quella della selezione di chi deve essere eletto della formazione delle liste Gaetana Zeriti in un articolo sul manifesto ha parlato di un parlamento eletto dai segretari dei partiti o comunque dei gruppi dirigenti dei partiti ed è così per come per il rapporto con la legge elettorale anche il nominato perché ormai nominati sono è già eletto si sa già chi vincerà in quel collegio i primi delle delle liste no il numero secondo le percentuali dei consensi previste cioè chi sono la composizione della lista bloccata e l'assegnazione del collegio decide quindi il voto è irrilevante scusate ma voi pensate che questo non produca un astensionismo politico politico di motivazione politica che non ha niente a che vedere con l'antipolitica o con la indifferenza non mi riguarda non non mi interessa in passato io ho fatto parte del partito comunista italiano per anni c'era un coinvolgimento degli iscritti con moltissime distorsioni ma si passava dalle sezioni per dire chi e bisognava che come la lista era stata costruita avesse fosse confermata dalla maggioranza di quelli che partecipavano all'assemblea di sezioni però naturalmente nell'assemblea si riproducevano le logiche di gruppi no? di maggioranza però c'era una dimensione no? che prevedeva un coinvolgimento e spostava anche la lotta politica dall'alto verso il basso e viceversa con una possibilità di influire dal basso verso l'alto le primarie sono una truffa da questo punto di vista perché intanto può chiunque che vuol dire? cioè quello che manca è il coinvolgimento del di chi propone si propone per per le elezioni una lista un partito formato come che sia un coinvolgimento nella formazione delle liste della parte sociale di cui si chiede il consenso e questo non può essere mascherato dietro altre formule se no appunto si cade in quella cosa dell'opinione di rivolgersi a un'audience indifferenziata indefinita indeterminata e questo crea una divaricazione tra società e politica istituzionale penso che sia decisivo spostarsi dalla quella miscidiale combinazione tra maggioritario e centralità del governo e ideologia della governabilità un dirigente politico di sinistra Bersani Pierluigi Bersani ha coniato è famoso per quelle le formule che coniano che inventa la sera dei risultati elettorali bisogna sapere chi governa allora per che cosa votiamo per il parlamento o per il governo attraverso il dispositivo maggioritario se si vuole ridare centralità bisogna ridare senso al pluralismo politico parlamentare che si deve riflettere nel parlamento e quindi alle opposizioni Pietro Ingrao quando era presidente della Camera non riuscì però impegnò gran parte del suo tempo e delle sue energie sulla questione della riforma dei regolamenti e dello statuto delle opposizioni lui parlava proprio di statuto delle opposizioni cioè scrivere regole dare garanzie ci fu una prassi Pietro fu eletto fu il primo Pietro Ingrao ad essere eletto così presidente della Camera che per un periodo assegnava all'opposizione la presidenza proprio per dare al presidente o alla presidente della Camera Camera Sanato delle due Camera un ruolo anche di garanzia delle opposizioni della funzione dell'opposizione se non c'è una funzione efficace effettiva dell'opposizione ma che che c'entra che il Parlamento è inevitabilmente un'altra cosa è appunto parte di un sistema che vede al centro il governo è un appendice del governo è una sede dove si ratificano le scelte e le politiche del governo questo è diventato e come la prassi che il professor Cuderi ha descritto di come anche l'opposizione partecipa al mal costume è molto significativa perché l'opposizione che ci sta a fare lì che ruolo ha quello di prepararsi a succedere al governo al passaggio di legislatura si rivolge come giustamente è stato rilevato si rivolge all'elettorato si rivolge al fuori alla scena mediatica non svolge la sua funzione propria che è quella appunto di far emergere le differenze anche di prospettiva di interessi di bisogni di priorità e di trovare poi su questo di dar voce come si dice a quello a tutto questo che dalla società proviene anche in questa direzione e creare su questo le condizioni di un confronto e poi di un compromesso di un negoziato di una mediazione questo è scomparso io non credo è l'ultima no poi sul presidenzialismo voglio dire una cosa sulla deduzione del numero parlamentare io non credo infatti a referendum io mi sono astenuta io non credo che il numero sia un problema in sé io tendenzialmente sono monocameralista sono per il monocameralismo sicuramente va superata diciamo questa no parallelismo che è diventata ormai appunto una disfunzione avere tutte le stesse funzioni il bicameralismo perfetto non funziona però quello che il problema non è il numero in sé è l'entità del numero della riduzione è l'ideologia del taglio che l'ha accompagnata e quindi dell'antipolitica è la mancata di ridefinizione delle circoscrizioni dei collegi che è una componente essenziale per ristabilire un rapporto e la mancata di definizione e di scrittura dei regolamenti parlamentari per le commissioni per i gruppi per tutto il funzionamento del Parlamento per tutti gli aspetti del funzionamento del Parlamento è questo che fa della riduzione del parlamentare insieme a questa orrenda pessima legge elettorale che ci troviamo la condizione per cui il Parlamento appunto sarà cosa? appunto un Parlamento di eletti che sono lì per rispondere a i leader oppure appunto il trasformismo presidenzialismo vorrei dire che prima di prima di preoccuparsi di una riforma costituzionale in direzione presidenzialista o comunque per affrontare in modo adeguato questo problema molto serio bisogna analizzare e anche lì partire dalla realtà cioè c'è un presidenzialismo di fatto che vede al centro non il presidente il capo della Repubblica il presidente della Repubblica ma il presidente del Consiglio cioè c'è maggioranza governabilità votiamo per il governo si si elegge il governo ma di più il migliore l'investitura da del migliore che non comincia con Draghi già Monti fu scelto in nome della competenza e di un ruolo del tecnico no? del portare i tecnici al governo non fu scelto su base politica no cioè dalla crisi economia finanziaria ci voleva la competenza come è accaduto poi per Draghi come ci confrontiamo con questo che produce nell'elettorato nella società quel rapporto di personalizzazione verso il leader verso il capo verso che appunto è l'aspetto che sta su cui sta costruendo diciamo la sua prospettiva Giorgia Meloni la riforma in senso presidenziale è conseguente a questo processo ipotizzare naturalmente se si va a una riforma che cambia la funzione del presidente della repubblica è l'intera costituzione che viene in questione della seconda parte è l'intera forma democratica di governo che viene messa in questione quindi Nebbi Camerà non a caso è comparsa sulla stampa l'ipotesi dell'assemblea costituente perché si ritiene che appunto solo una sede costituente le costituzioni si cambiano quando si ritiene che non sono più adeguate che si è entrata in una fase per cui bisogna riscrivere il testo il testo non corrisponde più alla realtà io non escludo che ci siano riforme da fare anche della costituzione ma non lo escludo in linea di principio non lo escludo nemmeno come dire sul piano forse delle iniziative da prendere no non ho un tabù su questo della costituzione rigida non ce l'ho non ce l'ho mai avuto però penso che quella riforma appunto coinvolge l'insieme e quindi così andrebbe affrontata anche per definire le sedie adeguate in cui eventualmente si può prospettare ipotizzare questo cambiamento grazie di questo arricchimento c'è Andrea Sandra poi c'è il mio nome che è pronto se non ci sono altre intanto raccogliamo a San Bassi ma mi sa che sarò intempestivo inadeguato come sono stato ieri con il professor Pugiotto ma provo una grande citazione dopo questa bella relazione del professor Curreri e poi le narrazioni personali che sono seguite che davvero interessantissime una specie di libro di storia del novecento letto attraverso le testimonianze vissute io credo che una cosa mi è venuta in mente mentre ascoltavo il professor Curreri tra le cause che hanno dato origine alla crisi del parlamentarismo io metterei in una posizione di dominanza quella o comunque di grande importanza la modifica all'elezione del sindaco nei comuni perché io credo che lì ci sia stata l'introduzione di una cultura collettiva verso la fascinazione dell'uomo unico al comando e se oggi parliamo di presidenzialismo magari anche di fatto come è stato in questo ultimo periodo e come si vorrebbe fare anche normativamente credo che abbia un'origine proprio da quell'esperienza lì il il consiglio comunale che poi fra l'altro è l'istituzione più simile al parlamento dal punto di vista ovviamente della dinamica anche politica di discussione politica di confronto di mediazione è anche l'istituzione più vicina ai cittadini quindi più idonea a creare una cultura collettiva di rapporto con le istituzioni oggi il consiglio comunale è del tutto svilito lo sappiamo è assolutamente inutile l'unica cosa che conta anche sul piano della dialettica politica prima delle elezioni è l'individuazione di un candidato sindaco che sia in grado di rappresentare non tanto una idea politica ma la capacità di gestire managerialmente io sono d'accordo molto con Zuffa quando dice oggi la funzione del primo ministro sembra quasi assimilabile a quella di un amministratore delegato di un'azienda è la stessa cosa che abbiamo fatto quanti anni sono passati 40 30 dall'81 quasi 30 con appunto nel 93 quindi fra l'altro ad opera di chi perché forse dovremmo anche interrogarci su questo chi è che ha introdotto e anche con enfasi questa cultura di un sindaco nominato direttamente dai propri cittadini il quale usa questa investitura anche in maniera ricattatoria perché nel momento in cui c'è una discussione in consiglio comunale rispetto ad alcune decisioni assunte dal sindaco e dalla sua giunta la prima cosa che poi è paragonabile alla funzione di richiesta della fiducia al Parlamento è quella di dire va bene allora io mi dimetto e andiamo tutti a casa e purtroppo questa è una cosa che accade con una certa frequenza ed ogni in qual volta il consiglio comunale che ormai almeno nei consigli comunali che ho avuto l'occasione di poter vedere o direttamente o indirettamente non avviene neanche più cioè la discussione si ferma ancora prima di essere di essere svolta questo credo che sia una cosa almeno personalmente mi crea un grande imbarazzo il pensiero che io temo non si possa tornare indietro da questa situazione perché riportare la centralità del consiglio comunale e quindi in qualche modo direttamente o indirettamente la centralità del Parlamento noi possiamo fare delle grandi e bellissime e sono state fatte e probabilmente si faranno ancora dei grandissimi ragionamenti di carattere teorico e di opportunità politica ma temo che proprio sulla base di queste esperienze apparentemente inferiori solo perché sono di livello inferiore dal punto di vista istituzionale sia molto difficile tornare indietro d'altra parte nella vulgata lo sappiamo ovviamente lo dico con il massimo rispetto perché l'opinione comunque comune deve essere tenuta in grande considerazione ogni qualvolta si possa parlare di politica all'interno dei bar o anche soltanto fra l'altro in contesti anche magari culturalmente un pochino più formati come può essere anche tra i colleghi passione lo sa molto spesso si sente questa ricorrenza un presidente del consiglio che non è stato eletto da nessuno è come se non avesse legittimazione senza ragionare sul fatto che il sistema è completamente diverso e se è diverso ha una sua ragione di esserlo ed è una ragione assolutamente autorevole che evidentemente ha perso ma io ripeto per l'introduzione con delle responsabilità che purtroppo non saranno mai fatte valere responsabilità di chi ha introdotto questa cultura dell'efficientismo politico che fra l'altro a mio modo di vedere non so bisognerebbe avere uno studio che io non ho sotto questo profilo uno studio anche sociologico però non mi pare che il sistema attuale rispetto alla elezione del sindaco abbia prodotto un efficientismo di produzione amministrativa migliore superiore o comunque qualitativamente diversa da quella che c'era prima dove invece il dibattito politico e quindi la funzione dei partiti nuovamente più importante di quanto non sia oggi aveva prodotto quindi io credo che cioè il vero rammarico forse un po' una domanda che io pongo c'è la possibilità di tornare indietro o di migliorare da questo punto di vista io solo su questo aspetto devo dire ho una forte una forte carica pessimistica mi do la parola intanto per raccogliere altre richieste di intervento ma parto da questa ultima riflessione di Andrea Sandra io ricordo di essere stato un sostenitore dell'elezione diretta del del sindaco perché c'erano molte obiezioni al sistema di elezione contrattata del del sindaco attraverso pratiche insomma che non erano senza usare le parole di condizionamenti o di di scambi di partitocrazia o altro e devo dire che l'esperienza dell'elezione diretta dei sindaci dei sindaci ha attraversato molte stagioni della politica non non è la stessa abbiamo avuto addirittura quella che è stata chiamata una stagione dei sindaci con anche coinvolgimento della società e coinvolgimento politico certamente il problema è che se anche questo modello va in crisi è per una crisi più profonda della politica e quindi non è più un portato attraverso un coinvolgimento delle forze politiche e delle forze magari della società ma è sconta la ricerca del del nome che può avere invece più consenso al di là dei contenuti e delle cose quindi io penso che la riforma vera essenziale è quella di rivedere i poteri di controllo e di iniziativa e di voto del consiglio comunale questo sì e però se devo dire l'impressione che ho come spettatore è che l'idea che qualcuno voglia fare il sindaco mi dà l'idea che è o un potenziale corrotto o un pazzo cioè o è candidato a rubare o a essere arrestato innocentemente cioè guardate che è una una cosa qualcosa che non non può funzionare così qui in in Carnia abbiamo ma non solo in Carnia credo l'abbiamo denunciato me un anno fa due anni fa la mancanza dei segretari comunali la paralisi amministrativa completa e la responsabilità eh dopodiché il cittadino appunto è che non è che c'è il sindaco che vuol fare il dittatore non può fare nulla per mancanza di struttura di risorse e il cittadino poi non è che se la piglia con il segretario comunale che manca se la piglia con il sindaco quindi insomma però secondo me rientra nella questione della crisi della politica e quindi delle forme di però vengo al tema del Parlamento da parte che la crisi appunto è stato ricordato anche nel primo novecento c'era una crisi contro il Parlamento anche da parte per esempio dei Repubblicani credo forse Giovanni Conti stesso eh sull'anti eh la critica al parlamentarismo al parlamentarismo e che cos'era il parlamentarismo cioè forse la caricatura della centralità del Parlamento poi questo però mi pare che il problema che abbiamo messo abbiamo voluto mettere al centro della discussione questa crisi del Parlamento è risolvibile e con che strumenti di pura tecnica oppure eh di eh capacità di affrontare la crisi politica che è giunta all'estremo eh perché questo eh il paradosso adesso abbiamo sentito il paradosso eh sollecitato della personalizzazione ma no dei partiti ma la personalizzazione è abbastanza preoccupante perché è in assenza di leader politici cioè la cosa paradossale che quando avevamo ricchezza di leader politici e non avevamo nessuno paura di dire che erano leader politici ma non veniva personalizzata adesso che abbiamo dei personaggi microscopici da tutti i punti di vista questi personalizzano rivolgimento abbastanza sconvolgente cioè siccome dietro dentro non c'è nulla bisogna mettere il nome come una saponetta ma non c'è nulla mentre storicamente nessun grande o piccolo partito ha avuto paura di avere un leader o più leader che lottavano politicamente questa cioè noi abbiamo appunto avuto questa storia di polemica contro i piccoli partiti come se le crisi di governo e il numero dei governi fosse dovuto alla negatività di presenza dei piccoli partiti una cosa incredibile cioè proprio di chi non conosce poi la storia della repubblica il ruolo di Ugo Lamalfa con l'uno e mezzo per cento non è paragonabile a niente di quello che accade oggi ma un ruolo importante di scontro di idee di politica all'interno della stessa maggioranza cioè il Parlamento che noi abbiamo conosciuto era ricco di dibattite di confronto ma all'interno degli stessi partiti e delle stesse maggioranze opposizioni cioè questa era la ricchezza non tanto non solo il confronto per convincersi o ascoltarsi fra maggioranza e opposizione ma era il luogo del confronto anche nei partiti e sceglievano il Parlamento per confrontarsi gli esempi potrebbero essere tantissimi inutile farli insomma quindi la polemica sul cattivo funzionamento del governo adesso ho visto anche Papa Francesco si è voluto informare di quanti governi ci sono stati in Italia tutte cose tutte cose risibili perché in realtà c'erano tanti governi ma era sempre lo stesso governo cioè quindi non era questo il vero problema a mio parere ma la polemica di trovare delle finte ragioni nel cattivo funzionamento del Parlamento o del governo per esempio attribuito appunto ai piccoli partiti è una cosa e da lì è cominciata una deriva insomma la crisi del rapporto fra giustizia e politica ha contribuito alla crisi del del Parlamento questo non non mi pare che è stato oggetto ancora della nostra questione ma la fra le tante delegittimazioni del Parlamento e della politica c'è stato anche questa questione no grossa del peso della giustizia quindi la ricostruzione deve non è facile perché dobbiamo ripartire da molte cose nessuno ha ricordato la vicenda che non è riconducibile solo a folklore al fatto di della costruzione da parte di bossi del Parlamento di Mantova cioè anche quella è stata salvinia rappresentava un po' anche con salvinia sì ma non non facciamo non fare provocazioni perché mi verrebbe da dire qual era la componente vera che rappresentava d'altronde la sua bestia era di Mantova quindi vabbè e no dicevo che però questa idea di una crisi del Parlamento per cui addirittura pensare a un altro Parlamento in un cioè mi è venuto in mente oggi in cui noi non sappiamo che Parlamento avremo possiamo passare dal pessimismo più atroce ma se se la situazione fosse atroce saremmo in una condizione rivoluzionaria o pre-rivoluzionaria evidentemente quindi quindi la in realtà se fosse vero lo scenario apocalittico che non so se ieri Andrea Pugiotto ha limitato al fronte delle nomine prossime venture e questo pone una grande responsabilità come si sta dentro un Parlamento che ha della illegittimità per costruzione e eversione politica che quando appunto c'è ribadito due giorni fa l'idea di cambiare l'articolo ventisette della costituzione voi capite che siamo a una condizione vicina al punto di rottura ecco quindi io la cosa difficile è pensare a soluzioni normali in una situazione completamente invece di rottura e di eversione il due annotazioni finali la corte costituzionale cancellò la legge Finni giovanardi proprio perché veniva da un inserimento in un decreto sulle olimpiadi invernali di Torino e anche quello con stravolgimento inserimento di un articolo completamente diverso appello che facemmo al presidente Ciampi perché non firmasse inutilmente eravamo in fine legislatura e quindi e voto di fiducia e anche lì voto di fiducia replicato Camera e Senato in quel modo ora la corte costituzionale a un certo punto su sollecitazione creata da un movimento arrivò all'annullamento la relatrice era Cartabia quindi fumo molto contenti però per pensare come le funzioni poi fanno dimenticare le cose buone e la stessa ministra Cartabia che ha inserito in un decreto sul risparmio energetico di non so quanti articoli recentemente ha inserito all'articolo 32 una norma per la costruzione di una REMS una residenza per le misure di sicurezza detentive per i prosciolti incapaci di intendere e volere da dettagliando che andava costruita in Liguria e con un finanziamento apposito eccetera no articolo 32 che peraltro evoca articolo della costituzione sul diritto alla salute ora questo per dire come appunto in un decreto che riguardava tutti i problemi dell'energia è stato inserito all'articolo 32 una cosa che addirittura stravagante le prassi ecco sono le prassi che anche da parte di chi conosce bene la costituzione i regolamenti eccetera poi vengono distorte ultime veramente due cose ma può essere un serio un parlamento che non discute mai le relazioni di applicazione delle leggi ci sono per obbligo la presentazione in Parlamento adesso per il risparmio non vengono più stampate quindi non c'è neppure la curiosità di avere un malloppo che può essere quella sulla 194 sulle droghe ce ne sono tantissime adesso siccome il Parlamento per risparmiare carta non stampa più quindi non c'è neppure la fatica di prendere dal cassetto della posta una relazione e magari dare un'occhiata siccome bisogna andare sul sito nessuno ci va il Parlamento non discute relazioni importanti invece ma non discute credo nemmeno i rapporti delle autoriti che ormai sono dei poteri enormi che non hanno alcuna relazione e forse invece il Parlamento dovrebbe discutere sulla autoriti delle comunicazioni della privacy e via via ma poi adesso sono così tante queste autoriti che forse meriterebbero di essere al centro della discussione perché se no la politica che cos'è se non c'è un Parlamento che discute di queste realtà che se no rischiano d'essere delle mine vaganti insomma no non delle e è stato ricordato da Perduca questa approvazione alla cieca ma lo ricordo anch'io era proprio una barzelletta dei le ratifiche dei trattati internazionali e questo con le modifiche della Costituzione fatte intervenute e quindi anche il peso che può avere la legislazione internazionale anche questo problema dovrebbe essere messo invece al centro dell'attenzione perché votare ratifiche o comunque strumenti convenzioni internazionali e che poi hanno un rilievo per la legislazione nazionale questo è un altro punto di novità assoluta che però deve essere messo più al centro dell'attenzione ecco mi pare che questo il legame poi lo affronteremo nel pomeriggio insomma con cosa sono i partiti articolo 49 ci sono non è mai stato applicato è disapplicato completamente quindi i diritti i doveri degli iscritti ai partiti certo non essendoci più i partiti forse non ecco va bene mi fermo qua a San Bassi e poi vedo Brian vieni allora vieni a San Bassi sto dicendo chi sarà grieco Brianese poi chi no io sono velocissimo beh fino alle 2 abbiamo tempo Pugiotto vediamo scusa no sono velocissimo anche perché effettivamente Franco hai un po' affrontato quello che volevo provare a sottolineare cioè le orizzonti allargati nel senso che il Parlamento oggi si ha una funzione legislativa poi spesso risponde da una parte a livello internazionale da quell'altra anche rispetto agli enti locali e mi rifaccio anche a quello che veniva portato prima come esempio noi abbiamo la conferenza Stato-Regioni che obbligatorie qualche volta non gli esprime e proroga quindi le decisioni che sono state prese pensiamo anche a tutto nel campo della sanità l'abbiamo visto anche con la crisi del Covid e i LEA ai livelli essenziali d'assistenza quindi poi il parlamentare approva e poi si dice come fa a seguire le conseguenze della legge approvata qualche volta non è nemmeno colpa del Parlamento se le cose poi non hanno come dire la successione delle conseguenze per cui sono state votate quindi questo è un altro tema poi mi riallaccio molto a quello che diceva Grazia cioè probabilmente le discussioni appunto non avvengono più nell'aula parlamentare avvengono molto in commissione probabilmente una pubblicizzazione maggiore di quello che viene deciso in commissione che viene deciso in conferenza Stato-Regioni in cui di nuovo i partiti esprimono Presidenti di Regione i nostri ministri cosa vanno a decidere a livello europeo perché poi le ratifiche nascono anche da discussioni che avvengono a livello internazionale a me viene in mente tutto il tema dei PAC sull'agricoltura che hanno un impatto fortissimo sul paese sulla produzione eccetera 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 e poi mi sembra che insomma non ci lamentiamo più degli errori che si trovano scritti negli articoli di giornale ma sembra che anche nelle norme anche dei migliori ci siano ogni tanto degli errori gravi la norma sugli extra profitti pare che sia stata scritta male e non è una norma che non incide su delle soluzioni rispetto al costo del gas eccetera eccetera e l'hanno scritta ai migliori allora o ci sono delle manine nella struttura tecnica che non rispondono alla volontà politica oppure insomma la situazione è grave questo grazie grazie Sara Grieco poi Brianese Passione ho preso moltissimi appunti allora innanzitutto volevo ringraziare sia il professor Correlli perché ha messo in risalto le patologie italiane in modo così sistemico perché spesso si rischia di parlare di disfunzioni ma senza riuscire a farlo in modo sistematico e quindi poi si crea una certa confusione e non si arriva a soluzioni e poi ovviamente Marco Boato perché ci ha consegnato tutto uno spaccato italiano che mette in risalto quello che è stato detto in modo più accademico con quello che poi accade realmente nella nostra storia io ovviamente non voglio anticipare e non lo farò l'argomento del pomeriggio però è evidente che tutte le sollecitazioni che sono arrivate e da questa relazione e da tutti gli interventi successivi non possono non sovrapporre i due piani sono d'accordo con Franco non bastano chiaramente la pura tecnica non bastano le modifiche dei regolamenti perché è evidente che la crisi del Parlamento e lo diceva bene il professor Correri parte dalla crisi dei partiti quindi dall'antipartitismo che fa riferimento agli anni 90 ed è molto vero che la dinamica parlamentare non può dipendere non esiste il singolo parlamentare nella dinamica parlamentare e un po' anche le esperienze di cui ci parlavano Marco ed altri lo dimostrano cioè il singolo parlamentare nella dinamica parlamentare è nulla quindi se non c'è il partito ovviamente anche il Parlamento c'è la crisi del Parlamento e dall'altro lato vorrei anche dire che questa crisi dei partiti non è percepibile solo dall'astenzionismo che appunto è lo simoro con l'articolo 49 che dovrebbe essere l'associazionismo e da questo dilagante esplosione dei gruppi misti con questo sono molto d'accordo sulla lettura che facevi dell'articolo perché anche secondo me il vincolo di mandato deve rappresentare un rafforzamento all'interno della dialettica del partito a cui si fa riferimento non un slegarsi completamente dalla volontà dell'elettore che a quel punto perde la fiducia anche perché purtroppo il trasfugismo oggi non è più frutto delle dinamiche passate ma dello scarso spessore del politico che abbiamo di riferimento a mio avviso ma un elemento secondo me che dimostra la crisi del partito è proprio l'instabilità politica cioè io non credo che si voglia dare responsabilità alla crisi parlamentare ai piccoli partiti ma come questi partiti nascono muoiono velocemente cioè fino agli anni novanta i partiti erano otto erano i partiti strutturati quelli tradizionali dagli anni novanta in poi invece tutti gli ingressi e le uscite sono state veloci e in un certo senso la prima nuova forza antipartitica è stata proprio la Lega di Bossi nel novantadue e non a caso messa in discussione dei partiti messa in discussione del Parlamento col Parlamento di Mantua cioè questa correlazione mi sembra abbastanza evidente poi c'è stata l'Italia dei Valori di Di Pietro e poi siamo arrivati ovviamente al nostro bel movimento centocinque stelle con Grillo un appunto rispetto a quello al parallelismo che si faceva prima col discorso comunale io non sono molto convinta che questo personalismo esasperato dipenda dall'efficientismo amministrativo ma proprio dalla crisi dei partiti tradizionali anche perché non mi convince assolutamente l'idea che l'elezione diretta del sindaco sia sbagliata a livello territoriale non so come spiegarmi a livello di amministrazione locale serve quel pragmatismo che invece è diventato eccessivo a livello nazionale prima Grazia lo diceva molto bene il presidente del consiglio sta diventando un amministratore delegato io credo che mentre a livello locale il pragmatismo serva e sia importante cioè i cittadini vogliono la soluzione delle problematiche del territorio a livello nazionale invece bisognerebbe ritornare a quella che oggi è considerata una parolaccia cioè anche un po' all'ideologismo cioè affrontare le questioni ma collocandole in una policy precisa cioè la la collocazione di quelle forze politiche sui temi nell'affrontare le questioni non semplicemente all'affrontare le questioni quindi in questo passaggio dal pragmatismo alla all'ideologismo io credo che a livello nazionale sia essenziale a livello territoriale non morto almeno dalla mia esperienza di consigliere comunale all'interno del mio comune perché non i consigli comunali non funzionano e vengo a dire il motivo il passaggio successivo e poi mi taccio perché non c'è l'adeguata formazione delle persone che lo compongono non c'è l'adeguato senso di responsabilità della rappresentanza che quel consigliere ha all'interno di quel consiglio comunale e pertanto quelle bad practice evidenziate dal professore che avvengono in Parlamento sono le medesime che avvengono all'interno dei consigli comunali senza alcun controllo da parte del presidente del consiglio che ammette tutto il malcostume che si riproduce dal livello territoriale fino ai livelli centrali l'utilizzo del cellulare fare cose personali queste sono cose che abbiamo assolutamente vissuto e quindi ritorno all'argomento del pomeriggio le soluzioni le soluzioni prospettabili mi convince molto la la dichiarazione di incostituzionalità dei maxiemendamenti perché se si parte dalla costituzione si riesce a scardinare anche un sistema e a far sì che i presidenti delle camere capiscano che la loro funzione è una funzione seria importante però queste soluzioni dovrebbero essere affidate a chi? ai parlamentari in principal modo alle opposizioni che dovrebbero capire la loro funzione ma per il professor Correri al termine della sua relazione diceva che cosa? che tutte queste soluzioni prospettabili come riporre al centro il Parlamento partendo proprio da uno statuto per esempio delle opposizioni dipende dalla volontà dei parlamentari e ai parlamentari questo non interessa perché è qualcosa di poco fruibile perché è qualcosa che da un punto di vista elettorale non paga nel breve periodo e allora ritorno al punto di partenza i partiti che non funzionano nella selezione della classe dirigente non funzionano nella formazione perché non si fa più formazione politica magari chi sta all'interno dei partiti cioè quelli che dovrebbero essere eletti venissero a giornate come queste quindi non c'è più né la formazione politica nei partiti e non c'è neanche più la selezione dei politici all'interno dei partiti un vecchio dirigente di partito che è quello che mi ha condotto nel partito democratico mi diceva non avere nessuna fretta lavora lavora bene studia formati perché poi sarà il partito a selezionarti bene tutto questo non esiste più lui ci credeva realmente perché apparteneva alla primaria e fu selezionato in quel modo ma questo scouting non esiste perché i partiti sono assolutamente privi di qualsiasi forma di valutazione delle competenze se non quelle del capo e allora la soluzione dov'è? Le regole devono essere poste in primis all'interno dei partiti i partiti non possono essere più soggetti senza nessun tipo di regola hanno bisogno di essere controllati un controllo interno attraverso regole chiare precise anche come per esempio nella formazione delle liste bloccate noi non sapevamo nulla della formazione della lista c'è stata catapultata dall'altra io faccio parte del gruppo dirigente provinciale del partito e un controllo esterno quello che parte dai territori quindi bisogna ritornare nuovamente alla territorialità perché i territori sono la prima forma di controllo dell'operato dei propri rappresentanti e quello che sta accadendo con queste circoscrizioni enormi noi abbiamo Frosinone e Latina insieme Latina facogita Frosinone probabilmente non avremmo mai la possibilità di conoscere l'eletto di Latina che venga a Frosinone sta apportando ancora di più questa mancanza di controllo e quindi l'unica selezione verticistica che è quella che arriva da partiti che non funzionano quindi io credo che due discorsi insieme non siano legabili che se vogliamo trovare delle soluzioni grazie grazie questo non vorrei che facciamo un mito del territorio però ma comunque un altro capitolo un altro capitolo Massimo Brianese secondo i criteri di Sara io adesso farò confusione in realtà mi ero fatto tantissimi appunti in questi due giorni poi però le cose dette negli ultimi interventi probabilmente condizioneranno le scelte di ciò che dico anche perché di tutto non si può parlare io ho seguito con molta attenzione e devo dire con ammirazione le relazioni di ieri e di oggi e mi sono trovato assolutamente in sintonia con tutto ciò che è stato detto oggi in particolare con parole molto migliori di quelle che avrei potuto usare io il professor Curreri credo ha saputo raccontare come ciò che aveva predetto in tempi ancora inopportuni coniando il termine teatrino della politica Berlusconi invece oggi si è pienamente realizzato cioè la politica è la cattiva raffigurazione di se stessa secondo alcuni parametri allora una nota di Campanile che mi è venuta in mente ieri quando a tavola Franco diceva ci deve essere qualcosa di molto profondo nel malessere che si traduce anche in crisi della politica e credo facesse questa considerazione a partire da ciò che è accaduto anche in Svezia circa 50 anni fa una persona non di origine friulana un intellettuale non friulano ma donato al Friuli per Paolo Pasolini che quest'anno compirebbe un secolo raccontava con i suoi scritti e con i suoi interventi probabilmente in un momento in cui nessuno lo vedeva se non lui con la sua capacità visionaria raccontava di come le mutazioni socio-economiche sociologiche che si stavano verificando nel nostro paese preludessero già nascondessero delle mutazioni antropologiche io non ho alcun requisito per indicare un contesto di tipo sociologico a quello che sta accadendo oggi però credo di poter dire liberamente che l'homo italicus del ventunesimo secolo rispetto a quello di 50 anni fa che pure mentre Pasolini diceva quelle parole era un periodo di grande vivacità politica era un periodo dove la conflittualità era forte c'erano ancora sogni speranze di cambiamento speranze di rivoluzione addirittura ancora in alcune parti della società e della politica ecco poi qualcosa è accaduto e l'uomo del ventunesimo secolo come dire è sicuramente un uomo molto de-responsabilizzato e oggi il termine responsabilità è uscito più volte oserei dire che è un uomo in necrosi umanistica e se questo accada perché c'è una crisi della classe dirigente e quindi ad esempio ciò che citava oggi il professor Cureri ma anche sarà adesso selezione della classe politica dirigente mi fa mi fa chiedere se siccome io penso che sia un problema di classe dirigente e non di classe politica di classe di classe dirigente oggi in questo paese mi fa chiedere se la classe dirigente è specchio del cosiddetto popolo o il popolo è specchio della cosiddetta classe dirigente non lo sono no una soluzione per questo ma cerco di arrivare abbiamo ciò che ci meritiamo allora tutti i pensieri i ragionamenti svolti stamattina partono dalla crisi della politica mettendola e delle istituzioni e del Parlamento che era oggetto della relazione di stamane mettendola in relazione alla crisi dei partiti io dico che però c'è una ragione alla crisi dei partiti perché altrimenti in questo senso vengo a fare confusione perché da lì credo che farei molta fatica a indicare una soluzione c'è la crisi del pensiero la crisi dei pensieri altrimenti questa crisi dei partiti così com'è non esisterebbe allora è stato detto che c'è la crisi del Parlamento ed è stata dettagliata però poi negli interventi di stamattina si è citata la crisi del sistema giudiziario la crisi degli enti locali i consigli comunali non hanno più senso non funzionano non servono aggiungo io qualcuno pensa che i consigli regionali funzionino meglio no la Corte Costituzionale svolge il suo compito non più o comunque non bene in un intervento di Assambassi si è citata la conferenza Stato-Regioni che non si esprime potrei citare la conflittualità per i poteri concorrenti tra le regioni e lo Stato allora è in crisi il Parlamento o a questo punto possiamo dire che è in crisi una comunità nazionale se c'è mai stata o per come c'è stata ed è in crisi uno Stato-Nazione in tutte le sue componenti io penso che sia in crisi lo Stato-Nazione e penso che in Europa sono in crisi gli Stati-Nazione qualcuno di più qualcuno di meno il nostro di più perché soffre storicamente di mali e di difetti che altri Stati-Nazione per ragioni storiche magari hanno sofferto di meno o non hanno sofferto la politica è la sede della mediazione fra interessi bisogni e pensieri diversi per la soluzione di controversie e di problemi oggi mi pare che non lo è più perché i protagonisti sono troppo piccoli perché i problemi sono troppo grandi e perché i luoghi e le modalità in cui si svolge quella mediazione non reggono più allora io rinunciando al contesto sociologico però credo che non possiamo dimenticarne uno storico e considerare che gli ultimi 20 30 anni gli ultimi 20 in maniera molto pesante sono stati condizionati da tre processi che hanno cambiato a un passo vertiginoso anche la nostra società la globalizzazione lo sviluppo tecnologico esasperato e la finanziarizzazione del sistema allora io sono uno di quelli che dice che l'ho imparato dal mio amico Mario Puiatti che non c'è mai un male senza un bene credo che nei primi due fenò processi che ho citato ci sia molto più bene che male ancorché oggi la politica e le istituzioni in Italia ma anche altrove non siano non siano in grado di governarli il terzo processo che ho citato quello della finanziarizzazione del sistema a mio parere ci mette nella difficoltà di trovarci qualcosa di buono ma è sicuramente quello che più di tutti gli altri la politica non è stata in grado e non è in grado oggi di governare ed è quello che a mio parere sta creando ma ha creato già da almeno un ventennio questa parte le più pesanti storture all'interno del nostro modello di sviluppo oggi si è rotto un legame territoriale fra l'organizzazione economica e sociale e i portatori di interesse no? io sono cresciuto in una generazione che parlava ancora dei padroni i padroni potevano essere più buoni o più cattivi prima vivevano in un luogo nel quano costretti azioni parti che erano costretti a relazione di interesse con il territorio con il portatore di territorio e oggi le relazioni che hanno determinato la nostra organizzazione sociale le nostre relazioni e in fin dei conti anche l'esistenza stessa dei pensieri e dei partiti cioè delle forme di organizzazione non ci sono più cioè oggi noi siamo di fronte quando il fondo di private equity che ha sede alle Cayman si padronisce tramite una finanziaria che sta da un'altra parte di una grande azienda italiana siamo di fronte a persone che stanno non ci sono neanche persone nel senso che ci sono dei manager a proposito di efficacia ed efficienza e a proposito di necrosi umanistica della nostra società che tirano una riga che si chiama EBITDA e tutto il resto non ha senso cioè non c'è neanche più la possibilità del conflitto rispetto a questo oggi le conseguenze le vediamo c'è una concentrazione impressionante delle leve di controllo delle risorse quello che sta accadendo in termini di spirale inflativa penso che solo uno sciocco penserebbe che tutte le risorse provenissero dalla Russia o dall'Ucraina è una speculazione terrificante che segue a quella concentrazione di potere rispetto a questo la politica è in grado di pensare o di dire o di trovare soluzioni è andata in crisi la funzione sociale dell'impresa che era molto simile in tutte le dottrine politiche che hanno fatto la storia dell'ultimo secolo in Europa era quella di redistribuzione del reddito e quindi in fin dei conti di coesione sociale lo era per le socialdemocrazie europee lo era per il pensiero liberale lo era per il cattolicesimo no? la funzione sociale dell'impresa oggi quella roba lì non esiste più e c'è un pensiero che rispetto a questo riesce a dire qualcosa ora dimmi mi stai tagliando? no? ok voglio dire che quello che abbiamo di fronte è uno scenario geopolitico ma anche di problemi enormemente diverso a quello vissuto dai partiti dai pensieri con cui molti di noi sono cresciuti che non ci sono più e secondo me è difficile pensare che recuperare quella dimensione possa aiutare a risolvere in questo nuovo scenario quelle cose io penso che oggi le istituzioni perché poi quando parliamo di modello democratico parliamo in realtà di quello che conosciamo in Europa nel senso che altrove non esistono gli stessi no? io penso io penso che la scala oggi fra le istituzioni esistenti e i processi è completamente disassata per quello che accade nel mondo e i luoghi dove si cerca di trovare delle soluzioni non non hanno più una proporzione ed è per questo poi che le istituzioni perdono di interesse la politica non attrae più perché tanto si determinano diversamente le cose io penso che tutti gli stati nazionali ma non credo di essere l'unico post bellici dell'Europa hanno esaurito la loro funzione propulsiva l'Italia è una cancrena io non ho alcuna speranza che questo paese possa farcela penso che le istituzioni nazionali non possono più riportare al centro dei processi globali la giustizia sociale la coesione sociale non ne hanno né gli strumenti né la massa critica allora eh tralascio molte altre considerazioni credo che nella storia che accomuna molti di noi vi siano state delle esperienze importanti che avevano cercato di portare a uno sviluppo del pensiero penso soprattutto all'esperienza dei verdi dei verdi del Friuli Venezia Giulia dei verdi Colomba quelli delle quattro lingue io penso che eh oggi vi siano alcune strade da un lato appunto il superamento degli stati nazionali e dall'altro l'affermazione piena delle forme di autogoverno delle dinamiche territoriali omogenee l'Europa delle autonomie insomma quella roba lì credo che possa restituire la speranza perché se non si restituisce una speranza un sogno è difficile è molto difficile ricostruire un pensiero quindi credo due siano le questioni che oggi volevo portare la politica non esiste più e purtroppo Sara tu dicevi poc'anzi dobbiamo dare delle regole ai partiti ma quali? partiti non ci sono non inventiamoci storie io il PD l'ho conosciuto è una roba finta è un marchio elettorale utilizzato da alcuni gruppi di persone punto non esiste nessuna sede dove si discuta di niente e ho avuto incarichi in organismi importanti del partito qualche anno fa non c'è le due questioni dicevo non c'è un rapporto fra la questione non è quella del rapporto fra capitale lavoro ma fra capitale ed essere umano se la politica non affronta questo e mi dispiace Franco io non ci sono vicino ma oggi l'unico uomo che da questo punto di vista ha un approccio politico al tema della società nel mondo è Bergoglio l'unico che ci prova e poi c'è una questione istituzionale superamento degli stati nazionali da questo punto di vista io ho una sola soluzione pratica tentando di non essere completamente un confusionario credo che in Italia sia stata fatto un gravissimo errore nell'avviare una importante riforma in senso federalista della nostra costituzione e che poi quella roba lì sia rimasta appesa lì e penso che forse se esiste una speranza di ricostruzione anche di alcuni percorsi istituzionali il compimento vero di quel percorso è l'unica strada possibile chiedo scusa della confusione abbiamo avuto un intervento cosmico che aiuta pugiotto e passione e poi dobbiamo dare la parola io direi se siete d'accordo come è già super il tema si croce e eventualmente il riservo di intervenire nel dibattito professor ha una capacità di farsi amare benissimo benissimo allora la parola pugiotto solo come chiosa alle cose che ho sentito credo che se riuscissimo a parlare meno di territori e più di comunità forse anche tornando indietro ad olivetti non sarebbe male detto questo un'altra suggestione che voglio porre al professor curreri è però questa idea di dire che ci deve essere il legame dell'eletto con e allora i collegi troppo ampli insomma come la mettiamo con i senatori degli Stati Uniti che sono uno o due per Stato e sono alcuni Stati enormi alcuni piccoli ma insomma diciamo che tutto questo problema si inserisce in una riforma istituzionale forse più più complessa insomma non può essere solo ridotta al legame eccetera Andrea dopo un intervento cosmico io torno terra terra perché credo che questo incontro di Treppo non sia un convegno accademico ma sia un seminario politico io ho scritto nell'articolo che lo presentava l'uniformista in manica di maniche di camicia arrotolate e e penso anche che chi ha promosso questo incontro la società della ragione in relazione politica con l'associazione Luca Coscioni e il centro di riforma dello Stato non vadano a comporre un club di ottimati ma siano sedi di iniziativa politica e allora io vorrei fare un brevissimo intervento terra terra perché alla luce della panoramica critica molto chiara molto esaustiva del collega Correri innervata dall'esperienza incarnata di Marco Boato penso che qui e ora noi dovremmo rispondere a una domanda scusatemi la devo ricordare io che non vengo da questa tradizione cioè una domanda leninista che fare ecco allora io penso che saremo tutti d'accordo nel dire che non passa per treppo la risoluzione della crisi consustanziale hai detto del Parlamento quindi anche consapevoli dei nostri mezzi intellettuali e politici poniamoci degli obiettivi realistici alla luce di quanto c'è stato detto stamane e cioè secondo me individuare dei vettori parlamentari che possono essere utili alle battaglie di scopo in cui le tre associazioni che hanno promosso questo incontro si riconoscono e allora muovendomi in questa traccia molto terra a terra io domando a Salvatore Curreri ma anche a Marco Boato se ne ha avuto esperienza nella sua lunga carriera parlamentare una valutazione su tre proposte forse praticabili la prima era emersa ieri la richiama oggi l'iniziativa legislativa popolare ce ne rentola fino all'altro ieri tra le tante forme di iniziative di input del procedimento legislativo ma che oggi possono un po' giocare su un propellente la firma digitale e su un habitat ideale quantomeno Palazzo Madama cioè un quadro normativo regolamentare che se sorvegliato dall'opposizione e garantito dalla presidenza consente all'iniziativa legislativa non di arrivare in porto ma di essere discussa e di essere votata secondo vettore l'agibilità e la utilità della creazione di intergruppi alla Camera o al Senato su specifiche tematiche o battaglie di scopo per quello che io ricordo esperienze di questo tipo sono state tentate in Parlamento mi piacerebbe sapere alla luce dell'esperienza di Marco Boato e se è un'esperienza che vale la pena riproporre eventualmente rivisitare il terzo vettore è la ridefinizione del quadro normativo dei regolamenti di Camera e Senato relativamente al seguito delle sentenze della Corte Costituzionale tema che la nostra amica e collega Marta Cartabia da Presidente della Corte Costituzionale ha cercato di battere perché passa anche da lì la possibilità che la leale collaborazione fra Corte Costituzionale e Parlamento si traduca poi in atti normativi passa da lì il fatto che il monito non si fermi al monito ma si traduca in produzione normativa è ovvio è chiara penso la razio della mia domanda e cioè dei vettori su cui chiedo di riflettere metto in fila alcune delle battaglie di scopo che hanno connotato l'iniziativa politica della società della ragione della associazione Luca Corsioni della centro riforma dello Stato l'idea di riformare la sciagurata riforma dell'articolo 79 della Costituzione unico contrario il voto di Marco Boato il superamento del regime ostativo penitenziario specie se applicato alla pena dell'ergastolo ma direi di più il superamento to cure dell'ergastolo la ridefinizione dell'attuale quadro normativo sulle scelte di fine vita il progressivo superamento del proibizionismo in materia di sostanze stupefacenti a cominciare dalle non droghe o dalla cannabis e alla luce del dibattito di ieri le eventuali modifiche della legge 352 del 70 sul referendum e eventualmente anche dell'articolo 75 della Costituzione queste sono state sono e presumibilmente saranno le battaglie di scopo che tanto più in presenza del Parlamento che verrà dopo il 25 di settembre se possono avere qualche chance di successo richiedono un veicolo iniziativa legislativa ovvero una spinta attraverso una sentenza della Corte Costituzionale al netto dello strumento referendario sul quale abbiamo discusso ieri una volta arrivate queste proposte alla Camera o al Senato ci deve essere qualcuno che se ne può fare che se ne deve fare carico ecco l'idea del gruppo dell'Inca Group con un'addenda mi bastano due minuti riguardante la Corte Costituzionale perché fino ad oggi queste associazioni sono arrivate alla Corte Costituzionale fondamentalmente attraverso tre strade la prima la disobbedienza civile che provoca il processo nel corso del quale il giudice solleva la questione di costituzionalità articolo 580 del codice penale caso cappato aiuto al suicidio la seconda la questione promossa nel corso di un processo dove uno staff di avvocati che da voce a queste associazioni mette a valore innovazioni giurisprudenziali illuminate della Corte Costituzionale che consentono di ottenere delle dichiarazioni in costituzionale una volta impossibili è quello che è successo lo si ricordava prima nella legge Fini-Giovanardi dove si è valorizzata la giurisprudenza della Corte che vietava l'introduzione di emendamenti eterogeni all'interno di un decreto legge ma è anche quello che si sta facendo sull'articolo 4b sull'edimento penitenziario ostatività penitenziaria che è in gioco davanti alla Corte non solo per quanto concerne l'ostattività alla liberazione condizionale ma anche a altre misure alternative alla pena è anche quello che dovremmo tornare a fare e scusate faccio questo breve inciso anche sul problema del sovraffollamento perché noi abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale la 279 del 2013 in cui i giudici di Venezia e di Milano chiesero alla Corte di dichiarare l'incostituzionalità di una norma del Codice Penale che è il 147 chiedendo che venisse differita l'applicazione della pena nell'ipotesi in cui l'istituto penitenziario fosse sold out in quella sentenza la Corte dichiarò accertò che quella situazione normativa era che la situazione del sovraffollamento era incostituzionale che l'ordinamento non garantiva una soluzione adeguata agli standard costituzionali non dichiarò l'incostituzionalità perché all'epoca c'era ancora la dottrina delle rime obbligate cioè io non posso sostituirmi al legislatore in una scelta discrezionale ma fece un monito grande come una casa dicendo che se il Parlamento non interverrà alla prima occasione utile io non potrò che dichiarare l'incostituzionalità sono passati quasi dieci anni e nel frattempo la Corte ha anche abbandonato la gabbia stretta della teoria delle rime obbligate quindi bisognerà rimettere in campo questa cosa ecco è la terza strada con cui torno al discorso principale si è arrivati alla Corte Costituzionale con alterne fortune è il quesito referendario quindi disobbedienza civile questio quesito referendario inviterei a iniziare a lavorare su una quarta via che si chiama tecnicamente azione diretta di accertamento della violazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto traduco perché non tutti sono chierici del diritto è la strada che è stata seguita per ottenere la dichiarazione di legittimità costituzionale prima della legge elettorale Porcellum e poi della legge elettorale Italicum ecco ora questa strada praticata con successo in materia elettorale dove in gioco c'era il diritto di voto penso che possa essere praticata non vedo particolari ostacoli anche quando è in gioco un'altra materia cioè non un diritto politico ma ad esempio un diritto civile costituzionalmente riconosciuto la cui disciplina legislativa non garantisce effettivamente la titolarità di quel diritto questa è una pista di lavoro sulla quale le tre associazioni potrebbero ragionare e identificare anche qui una via per poter ottenere dalla corte sentenze importanti da travasare poi attraverso quei vettori che dicevo in sede parlamentare scusatemi l'entramento per la terra ma grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti